Intanto sì, chi nota un'applicazione per iPad, dispositivi Apple, quindi Mac, eccetera. Perché questo corso è esplicitamente rivolto a questi strumenti. Sì, sì, ma io non lo sapevo. No, no, ma non importa, perché le metodologie che io vi propongo possono essere applicate anche con altri strumenti. Perché? Perché sono metodologie che nascono dalla didattica. Quindi se io spiego una certa cosa, come si struttura un quaderno operativo, voi potete usare PowerPoint e proporre una cosa analoga se utilizzate quella qui. Ah, ok, posso trovare un equivalente, quindi smalettare un po' per cercare. Ok, perfetto. Però quello che vi dicevo è che negli strumenti e applicazioni da avere, eccolo qua, le applicazioni Pages, Keynote, Numbers, eccetera, sono, si ritrovano anche in cloud. Quindi chi per esempio ha un computer Windows, facendo clic su quel link, questo, vedete, strumenti d'applicazioni, nella sezione biblioteca, oh, scusate, nella sezione biblioteca, quindi accede a iCloud, Apple iCloud. Ok. Voi create, chi non avesse un'ID app lo crea, come per tutte le altre applicazioni, Google, Adobe, eccetera, e qui si trova gli strumenti, gli stessi strumenti che noi impieghiamo, li ritrova in modalità cloud, quindi deve avere una connessione internet per poterli utilizzare, no? Questo è chiaro. Sono strumenti molto potenti, guardate, avete anche le mail, contatti, calendario, foto, avete di tutto, prendiamo Keynote, sono strumenti molto potenti che, vediamo un po', le creiamo una, crea presentazione, eccolo qua, scegliamo il tema, che hanno qualche limite rispetto, per esempio, a delle funzioni più avanzate, ma sostanzialmente potete fare tutto quello che volete. Potete anche utilizzare questo sistema per aprire un'applicazione Keynote e poi trasformarla, salvarla come, per esempio, PowerPoint, piuttosto che aprirla in pages e salvarla come Word, eccetera. Ok. Quindi è da esplorare un po' questo ambiente, ma è molto semplice e intuitivo. Vedi, scarica una copia, invia, stampa, sfoglia tutte le versioni, quindi anche puoi fare anche delle modifiche, queste vengono mantenute, ed eccolo qua che se tu salvi una copia, qua dalla chiave inglese, vedi, hai creato la tua presentazione, oppure l'hai aperta, hai aperto una di quelle che ti ho dato io tramite Keynote, no? Poi quando scarichi una copia, la puoi scaricare anche in formato PowerPoint. Ah, perfetto. Va bene? Quindi magari non mantiene esattamente i modelli, non so, la foto sarà... Che robe, però la maggior parte delle funzionalità... Esatto, magari la foto è un po' più spostata, il testo... Però, ma direi che sostanzialmente... Non cose sostanziali, ok. Sì, ma esatto, appunto, niente di straordinario. E quindi qui poi potete anche importare, naturalmente, allora scarica, invia, stampa, sfoglia, imposta, preferenze, puoi anche aprire... Dunque, vediamo dov'è. Beh, ma che non me lo ricordo perché... Ovviamente non lo uso mai... Ah, fa l'inverso? Sì. Perché... Come diamo, vediamo, forse... Da qui... Mostro, mostro, nascondi, notta, da qui, eliminati, recenti, più. Eccolo qua. Allora, praticamente, perché non la uso... Avendo gli strumenti, non uso la versione cloud. Però, quando voi arrivate nel cloud, quindi entrate nel cloud di Apple, ecco che vi trovate di fronte a questa piccola schermatina sulla sinistra, la trovate qua, esplosa a tutto schermo. Prima di scegliere Keynote, eh, o l'applicazione di riferimento, utilizzate il tasto più. Questo tasto più vi permette poi di importare... Ops. Dunque, vi permette poi di importare l'applicazione. Eh, no, scusate, non più, ma la nuvoletta. Eccolo qua. Allora, questa nuvoletta, questa nuvoletta vi apre una finestra sul vostro computer e dalla quale poi voi caricate il file di Keynote, magari quello che vi ho dato io. E poi da lì il file di Keynote lo esportate come file di PowerPoint, per esempio. Non so se sono stato abbastanza chiaro. Sì, sì, chiaro. Bene, c'è qualcun altro che ha delle osservazioni da fare in merito o comunque vuole dire qualcosa? Allora avete la possibilità di usare tramite questa sezione, questo link, alcune delle applicazioni Apple anche via web, quindi con computer Windows. non funziona invece da sistemi Android, da tablet Android, solo da Windows. Windows e Apple, chiaramente. Bene. Poi, allora, stiamo parlando del quaderno operativo. Quindi avete compreso il significato e l'utilizzo anche didattico del quaderno operativo? Avete delle domande, delle osservazioni in proposito? Qui intanto qualcuno di voi ha consegnato anche un po' di temi, per esempio Valeria. Valeria, progettiamo, ci guardiamo attorno, traiamo dei collegamenti, quest'anno qualcosa di nuovo, mostriamo prodotti ai compagni, eccetera. Quindi avete capito tutti bene, direi, qual è il funzionamento. Dunque, il quaderno operativo ha lo scopo, cioè deve essere costruito dall'insegnante. Vi è chiaro questo? È un vostro compito? Ci siete? Allora, io vi ho offerto dei modelli, avete dei modelli. Poi vi ho indicato come cercare anche altri modelli, potete cercare anche i modelli di PowerPoint, come preferite, ma la struttura deve essere una struttura che fa il caso vostro, della vostra disciplina, della vostra materia. Quindi voi pensate a tutti gli esercizi, i compiti, le proposte, anche di gioco, di sperimentazione, che sottoponete ai vostri allievi e le trasformate in strutture di slide che loro possono impiegare come un modello precompilato, cioè all'interno del quale loro inseriscono i contenuti. Abbiamo visto che possono anche gli studenti cambiare delle cose, però rimangono all'interno di una struttura. Questo è importante perché? Per diversi motivi. Allora, il primo motivo è che abbiamo dei risultati omogenei, cioè tutta una classe è portata a lavorare su un modello. Quindi vuol dire che sia gli interscambi tra gli studenti, cioè il modo con cui loro lavorano insieme, a volte per gruppi, oppure semplicemente si scambiano delle idee, ha una base comune, lavorano su uno stesso terreno. Questo è molto importante perché siamo in una fase cognitiva di apprendimento e sviluppo dell'intelligenza e della creatività. Quindi, prima di tutto, c'è una sorta di omogeneizzazione del lavoro e quindi questo vuol dire una maggiore facilità nei compiti di riflessione, metacognizione e sviluppo cognitivo. Poi, dal punto di vista dell'insegnante, è più semplice avere un quadro, perché avendo fornito una struttura, voi potete valutare le variazioni, cioè non siete costretti a interpretare anche il modo con cui le cose vengono sottoposte. E quindi vi concentrate su che cosa? Vi concentrate sull'apprendimento, sullo sviluppo, sulle capacità intellettive, sui risultati che vengono ottenuti a parità di condizioni. Poi, terza questione, ma non terza, è una questione alla quale ho netto una grande importanza. Se voi fornite dei bei modelli, dei bei quaderni operativi, che cosa fate allo stesso tempo? Beh, stimolate lo stile, la creatività, il gusto per il bello, per anche la presentazione corretta di un dato, di un contenuto, in modo che questo sia leggibile e quindi mettete i vostri studenti anche nella condizione di pensare che forse tre righe sono meglio di 25, forse un'immagine si può disporre così, magari due, forse non dieci, forse è meglio creare tre, quattro strutture, tre, quattro slide, tre, quattro pagine di pages, eccetera, che non condensare tutto all'interno, perché questo rende più leggibile il contenuto. Però attenzione, rendere più leggibile il contenuto significa svolgere un'operazione mentale sulla leggibilità. Quindi vuol dire che i vostri studenti, ma anche voi stessi, perché perdonatemi, se siete dei normalissimi insegnati, come lo ero io, prima di diventare, diciamo, un po' familiare con queste tecniche, anche noi commettiamo questi errori, di scrivere tanto, di non avere a usare dei fonti che non vanno bene, colori improbabili, eccetera, eccetera, cioè non prestiamo attenzione allo stile. Quindi sia allo studente che all'insegnante questa operazione serve proprio per riflettere su come rendere leggibile all'altra persona, a un terzo, il contenuto che deve esporre. Questo è così importante, secondo me, che è proprio il fondamento di questo corso, dove voi intenderete la leggibilità, non dal punto di vista di quello che c'è effettivamente scritto, qui trovi un allegato, ma proprio della composizione, della capacità di comprendere un contenuto che viene divulgato. E questo della divulgazione è un tema di straordinaria importanza, perché lo è? Perché a scuola normalmente si apprende e quello che conta è certamente comprendere un contenuto e questo va bene, perché se non l'hai compreso, chiaramente non puoi spiegarlo. Se Piero Angela non avesse saputo dell'esistenza delle tombe di Pompei, non avrebbe potuto realizzare le sue trasmissioni a Pompei, questo è evidente, quindi il contenuto è alla base. Ma il contenuto deve essere in qualche modo anche letto, ragionato, compreso da qualcun altro. Per farlo bisogna che lo studente si esprima affinché il contenuto sia compreso. E qui, ecco, questa operazione a scuola non avviene. non avviene perché lo studente si esprime per l'insegnante e non si esprime per divulgare al pubblico. Anche quando voi realizzate le vostre presentazioni in classe, lo studente non parla alla classe, si rivolge alla classe, certo, ma lo studente parla a voi, perché chi attribuisce la valutazione siete voi, mica gli studenti. E anche nel caso in cui gli studenti valutino il lavoro e ci sia un sistema di autovalutazione, ma siete sempre voi che avete il coltello per il manico. Quindi l'interlocutore dello studente siete sempre voi. Come fare a cambiare questo meccanismo? Beh, è molto complicato, se non impossibile, se non occasionalmente, perché anche quando lo studente sarà invitato a parlare in un'altra classe, ma lui sa benissimo che il risultato di quel suo intervento sarà da voi considerato. Quindi parla sempre a voi, parlerà sempre a voi, perché voi siete le figure istituzionali. Non c'è verso di cambiare questo meccanismo per quante cose voi possiate organizzare, a meno che non cambiate proprio sistematicamente il vostro modo di insegnare, ma deve essere un cambiamento radicale, cioè dove il pubblico esiste e il pubblico è fuori, il pubblico è nella scuola, è fuori dalla scuola, conta, conta moltissimo e la vostra valutazione è secondaria rispetto, cioè diciamo pedagogica, didattica, rispetto a questo, ma che è un cambiamento strategico, è un cambiamento fondamentale. Se voi invece usate Pegis qualche volta per fare dei documenti, quaderno operativo ogni tanto per proporre qualcosa, una volta fatto un podcast, eccetera, voi non ottenete questo cambiamento, ottenete altre cose importanti che sono quelle che vi sto spiegando all'interno del corso, ma non ottenete questo cambiamento radicale di interlocuzione. Quindi lo studente parla a voi, punto. Ma nel momento in cui, però, questo è ciò che è interessante, nel momento in cui è costretto a considerare esteticamente, graficamente, dal punto di vista della composizione e della leggibilità, come i suoi contenuti vengono recepiti, questo gli consente di operare un salto di qualità nella comunicazione, pur continuando a rivolgersi a voi fondamentalmente. No? Però, però, il lavorare sul piano estetico è un fine in sé che contribuisce allo sviluppo cognitivo del vostro studente perché lo fa ragionare su quei contenuti da un altro punto di vista, da un punto di vista che voi tenete in considerazione. Certo, se voi non lo tenete in considerazione, siccome lo studente ha come interlocutore il suo insegnante non lavorerà mai sul piano estetico formale, a meno che non abbia un interesse personale, una soddisfazione personale, un gusto, una curiosità personale nel comporre il contenuto in un certo modo. Creare una frase complensibile, una formula scientifica ben presentata, un diagramma che si legga bene, interessante, con i dati fondamentali, sono tutte cose, chiamiamole la piroangela se vogliamo dire, ma, giusto perché ne ricordiamo anche la scomparsa in questi giorni, ma questo è quello che fa realmente progredire l'intelligenza, perché, guardate, noi possiamo operare sul piano più astratto possibile della grammatica, della matematica, del simbolismo, eccetera, eccetera, ma solo quando un soggetto spiega ciò che ha preso a qualcun altro, ecco, lì abbiamo la verifica, non solo dell'apprendimento, ma anche delle capacità, Allora, Usubel parlava di apprendimento significativo, Brunner parlava della padronanza dell'apprendimento, ecco, abbiamo proprio la padronanza dell'apprendimento, la rimodulazione dei contenuti, non una rimodulazione casuale, ma una rimodulazione scientifica ragionata, aiuta i vostri studenti a compiere questo salto, ma allo stesso tempo aiuta anche voi, perché aiuta anche voi? Aiuta anche voi perché voi non siete abituati a ragionare in questi termini, anche se essendo in questo corso ovviamente avete questa tendenza, però poi la burocrazia scolastica vi assorbe, i programmi vi impegnano, le scadenze vi assillano e quindi abbandonate gli aspetti formali per concentrarvi che cosa? Sui contenuti e sui risultati. Adesso il cambio dell'immondizia passa proprio adesso. Una volta passavo la mattina presto, la notte tardi, adesso passano a qualsiasi sera di giorno e devo trasformare il mio studio in un centro di insonorizzato di registrazione. Dunque, stavo dicendo che queste cose sono importanti, sono importanti e bisogna attribuire la giusta importanza a queste cose e con continuità. Con continuità esigere che ci siano dei riscontri estetici proprio sul piano della divulgazione e della composizione dei contenuti e che questi riscontri abbiano un valore, quindi che siano valutati. La valutazione è complessa, potrebbe essere un argomento di cui possiamo parlare anche nell'ultimo incontro, a questo proposito vi voglio dire solo questo, che essendo complessa la valutazione, perché è complessa? Prima di tutto è complessa perché voi non dovete giudicare lo stile, voi dovete giudicare il risultato che lo studente ha ottenuto sulla strada della ricerca dello stile, perché non potete comprare stili diversi, non potete dire a uno studente non mi piace la palette dei colori che hai scelto, non va bene la palette dei colori che hai scelto, è la sua scelta, lo dovete far ragionare, dovete dirgli ma guarda che se tu metti un viola insieme a un rosa insieme a un fucsia vedi che si creano dei problemi, perché si creano dei problemi, perché la visibilità non è questa, eccetera, non hai degli altri colori da scegliere, magari cosa possiamo fare, è un ragionamento da portare avanti, perché siamo sul piano artistico, non nel senso che quello che voi producete o quello che producono i studenti sia arte, ma certamente va su quella strada, perché è la strada della creatività e non ci sono regole nella creatività, voi sapete che dopo aver definito tutte le leggi possibili e immaginabili di comunicazione, che cosa ricerca il comunicatore? Beh, cerca la rottura con queste leggi, ma dopo averle assimilate ovviamente, perché cerca la rottura con queste leggi è perché deve colpire, deve far passare il suo messaggio, il suo messaggio deve essere colto in mezzo a milioni di altri, quindi deve cercare delle strade spesso non istituzionali, quindi noi siamo qui per dare dei giudizi e voi non lo farete mai su questo, però delle valutazioni sì, e che cosa valuterete? Beh, voi valuterete il progresso e l'applicazione, certo che se uno apre il quaderno operativo butta lì dei dati senza rifletterci, la valutazione è insufficiente. Cosa vuol dire insufficiente? Vuol dire che non c'è stata una ricerca sufficiente, un impegno sufficiente, quindi non è il risultato che sia esteticamente incredibile che noi ci attendiamo, ma che ci sia un cammino, una riflessione su questa strada e lo dovete valutare. Però, e questo vale anche per il podcasting, il discorso che facciamo oggi, però bisogna che da parte vostra ci sia serietà e serietà vuol dire che non è che voi fate quattro interrogazioni a quadrimestre, due compiti in classe, poi date qualche voto su procedimenti alternativi, estetici, di composizione, eccetera, e quando viene il momento degli scrutini voi tenete in considerazione solo ed esclusivamente le valutazioni istituzionali, perché se operati in questo modo lo studente non viverà più dietro, lo studente perderà fiducia, non avrà nessun interesse. Dunque, quello che io vi suggerisco di fare con tutte le attività che vi ho proposto e vi proporrò in questo corso è di scegliere uno di questi due atteggiamenti e però di essere fedele. Il primo atteggiamento è quello di dire, quello forse anche più fatto, facile per tutti gli insegnanti, diciamo, è quello di dire, va bene, noi procediamo in un modo tradizionale, però ogni tanto apriamo un progetto, un progetto sul quale ci concentriamo invece sul valore estetico, compositivo, della bellezza, della divulgazione, della comprensione, della diffusione di quello che abbiamo appreso. Facciamo tre progetti durante, due progetti durante l'anno centrati su questo. Va bene, hanno un valore, hanno un valore perché lo studente capisce che, ma d'accordo, c'è un filone istituzionale che noi seguiamo, perfetto, quindi mi preparo per le interrogazioni, compito in classe, eccetera, eccetera, però c'è anche questa attività veramente interessante che è staccata perché magari l'insegnante non se la sente di modificare tutto il suo apparato, però capisce, ne capisce le importanze e quindi questo è legittimo, l'importante è che lo studente e lo capisca. Oppure c'è una seconda soluzione che è quella di dire no. Ragazzi, noi dobbiamo arrivare a dei livelli superiori di comunicazione perché questo significa una qualità maggiore dell'apprendimento, un passaggio da una conoscenza, una padronanza e quindi, attenzione, perché tutte le valutazioni saranno equivalenti e integrate fra di loro, sia quelle sul contenuto classico risolvi un problema e la soluzione è questa, sia su come tu esponi il problema e la soluzione alla classe attraverso un diagramma di flusso piuttosto che un documento impaginato. Però dovete, in questo secondo caso, dovete essere in grado di fare veramente così, sennò perdete, perdete tutto, perdete la fiducia nei vostri studenti. Ecco, vedete, è come quegli insegnanti, ce ne sono tanti, E tantissimi, direi la stragrande maggioranza, che appunto frequentano qualche corso così, imparano per esempio delle nozioni di gamification, no? E dicono, ah che bello, gioco a scuola. Quindi ogni tanto svolgono dell'esercitazione attraverso dei giochi, però poi non li tengono in nessuna considerazione, perché per loro sono, come dire, qualche cosa in più, così, che viene dato, che alleggerisce e rende interessante un po' quello che si fa, lo scopo è di richiamare un po' l'attenzione, di riprendere un po' la classe attraverso un sentimento e delle emozioni nuove, ma poi questo, diciamo, è una cosa che non modifica l'impianto strutturale. Ecco, che cosa capiscono gli studenti? Beh, capiscono che il gioco è gioco, lo studio è studio, sono due cose che insieme non vanno. Ogni tanto le facciamo, ma insieme non stanno. Invece no, la gamification è un sistema di, un vero e proprio sistema di apprendimento, di formazione, eccetera, ma per considerarlo tale bisogna che l'insegnante faccia questo, cioè applichi delle meccaniche di gioco dal primo settembre, dall'11 settembre al 30 giugno, perché se non lo fa risulta, il contentire. Ragazzi, oggi ricreazione, facciamo un giochetto i dati, ragazzi, oggi ricreazione, mettiamo, guardate la grafica di questa slide o quest'altra cosa, no? Io invece, ad esempio perché avevo fatto un corso di gamification e la utilizzo per fare le verifiche, loro pensano di giocare perché si sono contenti, perché insomma, ecco, io utilizzo quizis. Sì, ma non basta. Cosa? Non basta, perché la gamification non è verifiche, la gamification è una struttura, una struttura di apprendimento. Sì, sì, però ecco, io ho iniziato utilizzandolo per le verifiche e loro sono contenti, solo che poi gli scali per me. Certo che sono contenti, ma non hanno compreso il vero significato di una struttura di gamification se non sono loro insieme all'insegnante a progettare i giochi didattici per apprendere. Perché la gamification, adesso io, tra l'altro, tra l'altro mi viene in mente che, ma sì, va, ve lo dico tanto, tanto lo faccio. Prima di Natale, prima di Natale distribuirò gratuitamente un libro sulla gamification. È un lavoro che ho fatto per gli Stati Uniti, che è stato pubblicato appunto negli Stati Uniti in lingua inglese, però poi ne sono pubblicato in lingua italiana e mi sembra un'idiozia che io, italiano, pubblicho una roba che leggono degli americani e non leggono. Allora, l'ho messa a posto e la voglio condividere e quindi ve la darò poi gratuitamente. Se mi seguite da qualche parte poi riceverete le informazioni. Ora, apriamo solo una parentesi su questo tema perché il podcasting si avvicina a una sorta di gamification, se vogliamola, ma voi dovete considerare che la scuola è già di per sé strutturata come un ambiente di gioco, un ambiente gamificato. Lo è già. Quindi non c'è neanche bisogno di introdurre elementi di gamification perché la struttura della scuola è già gamificata. Scusate, intanto apro la finestra di nuovo perché ho preso il piano, ma non voglio morire soffocato per una delle sei. Perché la scuola è già una struttura di gamification? Beh, voi pensateci un po'. Intanto è strutturata per passaggi di livello. Quindi si ottengono dei successi, se questi successi vengono ottenuti si passa di livello. Si passa da micro livelli a macro livelli. Micro livelli si passa da un voto a un altro voto più importante. Quindi c'è una crescita di livello all'interno dello stesso scenario narrativo. Ma c'è un passaggio anche di livello con perdita delle vite perché tu perdi una vita se sei rimandato o poi la riconquisti nel momento in cui passi all'anno successivo. Ma se vieni respinto più di tre volte perdi tre vite esci dal gioco e non lo puoi più fare. Sono le stesse identiche dinamiche dei videogame. Identiche. La valutazione è identica. I premi sono identici. La struttura di gioco è identica. Solo che questo è il problema della scuola viene considerato un ambiente serio e non di gioco perché viene contrapposta dalla serietà istituzionale burocratica dell'apprendimento alla giocosità libertà eccetera che non ha nulla a che vedere con lo studio. Figuriamoci se ha a che vedere con lo studio. Quindi da un punto di vista proprio strutturale non ci sarebbe bisogno di fare nulla. Nulla. Né di prendere quiz né di fare niente perché ci sarebbe solo da appoggiarsi sulle dinamiche di gioco su cui la scuola si fonda ma che non le considera come tale. paradosso della gamification a scuola ma qui chiudiamo il discorso tanto se leggerete questo testo poi io lo spiego molto bene tutti i meccanismi. Bene passiamo a noi al nostro tema podcasting cosa dite? Sì no? Sì? Perfetto. Dunque allora apriamo il primo messaggio che vi ho inviato allora noi utilizzeremo due cose qui oggi cioè in modo essenziale GarageBand e Spreaker da un punto di vista tecnico ma il punto di vista tecnico del podcasting è è veramente semplice è una semplicità disarmante non era così nel 2005 quando l'ho introdotto nelle scuole italiane abbiamo dovuto acquistare dei mixer abbiamo dovuto acquistare dei microfoni abbiamo dovuto collegare tutto delle schede di computer abbiamo acquistato un server anzi abbiamo vinto un server che registrava automaticamente poi bisognava bisognava anche ottimizzare le trasmissioni erogarle via web non c'erano sistemi automatici l'unico sistema automatico era un server podcast producer prodotto da Apple ci sono volute settimane per configurarlo e poi per metterlo a punto insomma è stato molto molto complicato perché perché la tecnologia del podcasting all'epoca era molto simile a quella della radiofonia con tutte le caratteristiche ovviamente che la registrazione musicale della voce aveva aveva quasi vent'anni fa praticamente oggi le cose sono radicalmente diverse abbiamo dei procedimenti automatici che con due click ti permettono di registrare e derogare la trasmissione quindi la parte tecnica si è ridotta moltissimo e e resta importante invece la parte didattica la parte didattica allora qui avete visto che la radio ha un ruolo centrale nel podcasting io non so se voi siete degli ascoltatori della radio penso di sì perché tanta gente ascolta la radio anzi vi faccio una domanda secondo voi sono più le persone che ascoltano la radio o guardano la tv? che ascoltano la radio la radio perché in auto tutto il tempo che si passa nel traffico sì perché ho sbagliato io a fare la domanda perché si sapeva già qual era la risposta era implicita perché normalmente siamo portati a pensare che sia la televisione il medium più diffusa invece la radio pensate che negli Stati Uniti abbiamo 11.000 emettenti radiofoniche a fronte di circa 4.000 5.000 televisive giusto per darvi un'idea quindi sì e tutte le statistiche le potete cercare tranquillamente dimostrano che l'ascolto l'ascolto è una cosa molto importante e il podcasting è questo che dovete prima di tutto il concetto da cui dovete partire è che il podcasting è legato intrinsecamente alla radiofonia non esiste podcasting senza prima la radio anzi vi dico che nei primi anni anzi fino a 4-5 anni fa 5 anni fa in grosso modo il podcasting era la radio senza la diretta la radio senza la diretta perché si registrava e poi si erogava oggi invece il podcasting è anche la diretta quindi non esistono più differenze tra radio e podcasting anzi il podcasting ha qualche cosa in più infatti il podcast non ha bisogno di avere una radio perché la incorpora già lui mentre la radio ha bisogno di avere un podcast per registrare le trasmissioni e fare in modo che il pubblico le riascolti anche quando la trasmissione non è più indiretta quindi i due medium hanno avuto un'evoluzione importante nel loro rapporto il podcasting ha a che fare proprio con la radio ma non tanto dal punto di vista tecnico sì va bene abbiamo un microfono o senza microfono perché anche da cellulare e da ipad voglio dire si può registrare a un livello amatoriale si può registrare senza nessun problema abbiamo questi strumenti qui d'accordo ma soprattutto quello che bisogna comprendere è che il podcasting per essere efficace deve essere organizzato come la radio attorno a un concetto di format e di clock format e clock che sono due cose che adesso vedremo naturalmente questo è il cuore del podcasting cosa che molti ignorano fare podcasting significa mettersi dentro un microfono parlare fare no 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 dobbiamo studiare un format e un clock un altro concetto molto importante sul quale vi invito a riflettere è quello di paesaggio sonoro il concetto di paesaggio sonoro è stato elaborato da una serie di antropologi che nel corso degli anni hanno compiuto degli studi in tutto il mondo sulle influenze proprio del paesaggio audio sonoro cioè di quello che voi ascoltate nel vostro ambiente dei rumori dei suoni dei motivi voci versi con i quali avete che fare durante la vostra vita normale e l'influenza che hanno nella vostra cultura nella vostra vita e anche a livello di organo sensoriale di ascolto sono delle ricerche importanti io le avevo riassunte già nel 2009 in un libro pubblicato dalla terza che però aveva tagliato anche molti capitoli di questa di questa di questa analisi che invece poi ripropongo e anche in una dispensa che adesso verrà poi vi verrà fornita tra qualche settimana insieme a quell'altra della gamification sono due pubblicazioni che voglio distribuire appunto gratuitamente prima di Natale e però torniamo appunto al concetto di paesaggio sonoro è importante che l'insegnante sappia che cosa c'è dietro il podcasting quali siano i rapporti tra i medium uditivi e i medium visivi quali siano la loro efficacia le loro caratteristiche di fondo e che ne parli e ne discuta con i loro studenti e quindi che non si metta subito ad agire quindi a creare un podcast senza avere la consapevolezza di quello che sta facendo esattamente come abbiamo fatto quando ci siamo occupati di impaginare un documento con Pages o di creare un quaderno operativo con Keynote la stessa cosa facciamo con il podcast quindi ecco che cosa facciamo adesso io vi piazzo subito un compito eccolo qua il paesaggio sonoro esercizio facciamo un esercizio sul paesaggio sonoro dunque avete il testo dell'esercizio quindi leggete il testo dell'esercizio poi ascoltate questo paesaggio sonoro proprio lo ascoltate dall'inizio alla fine dopo che lo avete ascoltato svolgete l'esercizio lo svolgete come compito quindi scrivete qual luogo geografico si presenta però in forma narrativa queste domande vi servono per aiutarvi a ragionare ma io voglio che voi facciate un racconto tipo c'era una volta un signore che eccetera eccetera che cosa vi fa che storia che narrazione che racconto vi fa venire in mente questo paesaggio sonoro e questo è un vero e proprio paesaggio sonoro ci sono domande perché io spengo il microfono invito a tutti di spegnere il microfono di concentrarsi dieci minuti su questo tema forse un quarto d'ora perché quanto ah no due minuti dieci minuti dieci dodeci minuti su questo tema e svolgere questo compito consegnando l'esercizio è chiaro ci sono domande avete domande un dubbio che va a coro un po' una che ve rode però no vedremo dopo aver ascoltato perfetto ci saranno domande perfetto allora non intervenite con domande ok perché adesso ci sono dieci minuti dedicati alla comprensione all'ascolto all'ascolto del paesaggio sonoro alla comprensione dell'esercizio va bene se avete delle domande le facciamo quando io vi dirò ok allora ritorniamo in trasmissione e parliamo di quello che avete fatto d'accordo pronti pronti via spengo tutto vediamo cosa dice dice in un piccolo paesino arido e silenzioso c'è qualche microfono accedo lo spengo io allora ricostruzione di un paesaggio sonoro in un piccolo paesino arido e silenzioso improvvisamente un forte rumore di vetri rotti disturba la quiete degli animali che in coro cominciano a sghignazzare è bello che gli animali sghignazzano è una specie di antropomorfizzazione questa interessante in lontananza si sente un treno in arrivo alla stazione accorre una donna aspetta l'arrivo del suo amoroso wow è una storia d'amore ma il treno non si ferma e lei disperata comincia a mettere una serie di acuti come per fermare quel treno che ha deluso dei suoi aspetti a dire bello non trovate carina questa storia bella bella storia che dite vi ha colpito questa storia sì brava molta fantasia e soprattutto è stata corta ed è stata rapita dai suoi eh sì è un romanzo biografico perché Anna-Lisa ha sempre aspettato sul muro della stazione che non è mai scesa ha dovuto rincorrere il treno fermarlo giusto? gli è capitato scherzo ovviamente molto bene allora restituiamolo ottimo adesso vedrete che la cosa interessante sarà che non ci saranno due interpretazioni uguali allora mi stavo incamminando per andare questo è Fulvio Fulvio Fontana mi stavo incamminando per andare da mia zia Cecilia quando al momento di attraversare la strada sulle strisce una moto inchiodò fumante quasi mi investì in pieno se non si fosse nel frattempo inclinata quasi a terra proprio una una frenata di quelle da da film proprio da cartone animato anzi pochi istanti dopo il potenziale impatto sentì un rombo provenire dal porto un rombo che annunciava l'attracco di un nave gigante di cui scorgevo solo la canna fumante da quell'istante percepì i fringuelli strappi no satrapi scusate moschi indocinesi chissà come sono i moschi avranno gli occhi a mandorle moschi indocinesi annusai nutella avariata una pozza di fetticio fangoso venne cosparsi intorno a me udí cannule cambogiane libello in norvecesi infine un rospo però nessuno l'ha baciato il rospo è Fulvio qualcuno va a farlo no la moto mi aveva ah però caspita la moto mi aveva reciso un braccio questo non va bene però Fulvio che mi dici Fulvio Fulvio ci sei ci sono ciao Alberto ciao a tutti ciao carissimo che dici Fulvio e che vuoi che ti dica c'era questo rospo no perché l'ascolto mi sono lasciato come hai suggerito tu prendere dai suoni infatti ho anche preso questo strumentino che mi aveva portato un po' lontano e quindi è venuta questa storiella con questo finale un po' che era un po' forse il suo il suo delirio dopo era un delirio sonoro dopo un braccio reciso un delirio sonoro dopo un braccio reciso potrebbe essere proprio il titolo di questo racconto particolarmente interessante poi vi svelo da dove arriva questo paesaggio sonoro Gabriella Gerra Gabriella Gabriella invece ha scritto ascolto intrigante il paesaggio sonoro che si presta diverse interpretazioni a me in un primo momento ha trasferito in Afghanistan in assetto di guerra per l'arrivo di elicotteri sparatori e musica asiatico orientale poi la mente mi ha fatto trasferire in un bar a giocare una partita ai flipper per rimbalzi di suoni che ho associato ai rimbalzi della panina sui vari bersagli quindi un gioco di rimandi addirittura dalla guerra al gioco al divertimento vero? un complesso un complesso di emozioni diverse direi sì in un primo momento sembrava di essere proprio in assetto di guerra poi dopo però lasciamole perdere le guerre e andiamo più su altro che è meglio ok va bene poi abbiamo aspetta a Fulvio abbiamo consegnato ma li lo restituiamo io cerco di caricare mi dice sempre rifiutato dal server il mio file non ho capito ancora perché per quale motivo ma dove? ma dove? vado su carica file e poi come vado a cliccare sul file mi dice rifiutato dal sistema dal server è rifiutato da tutto non lo so da tutto boh non lo so ma tu apri il documento adesso provo a trascinare il file vediamo ma anziché trascinare il file copia e incolla copia e incolla dentro il compito no? crei il compito il foglio nuovo no no ma non me lo fa proprio aprire io apro documento vediamo ecco si è verificato un errore durante la creazione del file riprova e se riprova dice sempre la stessa cosa non so mi dispiace Cristina sarà perché ho la memoria super piena potrebbe però stavo cercando di fare un po' di pulizia ma non è quella infatti non è pesante quindi non so per quale motivo può essere qualcosa che ha a che fare con la rete qualche antivirus qualcosa non so allora Cristina mercato della città Odessa luglio 22 il cielo è limpido la gente cerca normalità in un contesto che di normale non ha nulla all'improvviso tra chiacchiere urla e macchine sentono degli spari elicotteri navi tanti rumori insieme che non ricordo la provenienza non so descrivere cosa si è successo e dove tutto da un tratto mi trovassi poi silenzio bello anche questa è un'impressione che hai avuto avete chiuso gli occhi vi siete soffermati proprio sull'ascolto vero Cristina esattamente esattamente e poi volevo continuare ma poi sei arrivato quindi ho chiuso e ho consigliato ah ok va bene avete notato che tutti avete indicato qualche cosa di preciso animali luoghi date perché perché di fronte a questa astrazione sonora a questi significanti voi avete bisogno di contestualizzare con più precisione quindi ecco che inserite degli elementi molto concreti allora ci troviamo qui siamo con Giuseppina Giuseppina dice ci troviamo in una città di mare precisamente una zona portuale si sente il suono di una nave la tromba acustica che saluta ed avvisa della sua presenza si sente gente che canta sinfonie orientali il suono melodico di una radio si tratta di una città in cui la gente usa l'auto ma manca la frenata improvvisa per qualche pedone o forse anche un ciclista che vuole attraversare o per qualche autista distratto si sente la frenata l'urto e all'improvviso l'urlo intorno al bosco intorno al bosco in cui un lupo urla ed un orso si avvicina le zanzare ronzano ed un rumore da sega creano un ritmo fracassoso allora Giuseppina anche anche Giuseppina avete ha cercato di descrivere proprio di nominare di nominare quanto più possibile il lupo le zanzare l'orso sinfonie orientali cioè l'audio porta proprio la sonorità i significanti portano proprio a cercare di contestualizzare poi vediamo subito per quale motivo adesso ne prendo ancora una a caso io volevo solo dire che siccome non riuscivo ad allegare il file ho copiato il testo nel commento che potevo inviarti quindi non so se si riesce a recuperare come no ottima idea fantastico allora Maria Rosaria dice siamo in una pianura paludosa ci sono delle tribù che si stanno affrontando per la conquista del territorio ed usano frecce pietre ed altri oggetti per colpirsi ma non riescono nessuna delle due tribù a sopraffare l'altra perché nel contempo arriva una committiva di turisti arriva una committiva di turisti chiassosi che comincia a scattare foto loro si nervosiscono e scappano forse è meglio così il contenzioso si è risolto in modo incruento allora intanto vedete che anche questo lo restituiamo intanto vedete che avete adesso non possiamo leggere tutti ovviamente però poi io li leggo e scriverò dei commentini personali per voi però intanto che cosa abbiamo visto da questi commenti abbiamo visto che ci sono due tendenze che bene o male o l'uno o l'altra avete sempre cercato di avete seguito allora la tendenza di chi ha cercato prima di tutto di decodificare cioè di capire quello che avveniva cioè la provenienza dei rumori la provenienza degli elementi sonori e quindi ha nominato ha descritto ha cercato proprio di decifrare quello che succedeva e poi c'è una seconda tendenza invece di persone tra voi che hanno subito cercato invece di raccontare un'esperienza come se la vivessero cioè una sorta di storia comune a tutte e due queste tendenze cioè il la necessità proprio la necessità impellente di precisare il contesto perché questa precisazione del contesto perché noi abbiamo a che fare con dei significanti significanti sapete qual è la differenza che cos'è un significante no? la parola è un significante se io dico non lo so vediamo qua territorio eccolo qua territorio è un significante se io qua scrivo anziché territorio scrivo territorare non posso scrivere qui vabbè non importa se anziché territorio dico territorare se voi conoscete le francese sapete che è territorio altrimenti voi non sapete di che cosa si tratta perché? perché un significante è un suono è un suono arbitrario non significa nulla se qualcuno non dice che cosa significa cioè è un codice se non è trattato come un codice la lingua è un codice è un codice di corrispondenze tra significanti e significati noi diciamo che il territorio cioè questo suono territorio territorale è un significante che significa territorio cioè significa terreno zona geografica eccetera eccetera questo è stabilito dal vocabolario senza un vocabolario noi non possiamo decifrare i suoni è impossibile gli ornitologi cercano di decifrare i versi degli animali degli uccelli e così via cioè cercano di costruire dei vocabolari altrimenti per noi sono dei suoni questi suoni si chiamano significanti e dunque in un paesaggio sonoro che noi non conosciamo noi abbiamo a che fare con una quantità di significanti che non sono necessariamente collegati a un significato perché quelle che voi avete individuato come trombette magari chi lo sa se sono delle trombette spari non sappiamo ma sono degli spari ericotteri forse ci assomiglia al suono ma non è detto non è detto perché non è il nostro ambiente in effetti di che paesaggio sonoro si trattava beh questo è il paesaggio sonoro di Nairobi centro di Nairobi al mercato il mercato di Nairobi credo negli anni intorno a qualche anno 70 dove Schaffer che era un antropologo che studiava proprio il paesaggio sonoro aveva svolto delle registrazioni lui registrava poi faceva i suoi studi eccetera eccetera quindi vedete come siamo distanti non c'era guerra probabilmente quelle lì che non erano elicotteri e insomma tante cose eravamo a Nairobi nel centro di Nairobi al mercato di Nairobi un paesaggio a noi sconosciuto però noi abbiamo bisogno di interpretare ora è vero che ve l'ho detto io di farlo ma nel momento in cui voi vi trovate in un ambiente sconosciuto la prima cosa che fate è cercare di capire dove vi trovate come funziona quell'ambiente lo stesso avviene se cioè in entrambi i casi se l'ambiente è fisicamente visibile tattile o anche semplicemente sonoro quindi voi non siete confrontati con niente di visivo in questa faccenda noi dobbiamo svolgere qualche riflessione per cui voglio ritornare ai documenti che vi ho dato allora noi dobbiamo fare alcune considerazioni su proprio a partire da questa esperienza di paesaggio sonoro fare alcune considerazioni sulle caratteristiche degli strumenti uditivi prima di tutto dobbiamo considerare che gli strumenti uditivi nella nostra società sono molto pochi utilizzati specialmente a scuola nel senso che dunque dov'è questo dispensa eccolo qua nel senso che vediamo se l'avevo scritto qua sì ecco allora in questa piccola dispensina dove appunto vi parlo un po' del paesaggio sonoro tocco proprio questo argomento che è importante guardate che la scuola fondamentalmente è basata su strumenti uditivi si parla più che si vede più che vedere poi gli strumenti visuali sono aumentati molto anche grazie ai mezzi informatici televisivi eccetera però fondamentalmente la parola rimane proprio il cuore il cuore della dei media che vengono utilizzati a scuola però non c'è un vero utilizzo perché non c'è un vero utilizzo sentite non c'è pensiamo anche a delle banalità come questa per esempio non c'è modulazione nella voce gli insegnanti normalmente non sono abituati a modulare la loro voce in base a studi precisi perché voi sapete penso che l'articolazione vocale il timbro il modo con cui ci si esprime l'utilizzo degli accenti le pause la coloritura di quello che si dice fanno parte di una serie di studi che molto precisi che riguardano la comunicazione in questo caso la comunicazione vocale audio esattamente come ci sono gli studi che si occupano della comunicazione visiva e naturalmente noi non abbiamo non siamo stati preparati né per l'uno né per l'altro siamo stati assunti nel nostro lavoro semplicemente perché conoscevamo la materia da insegnare ma non abbiamo svolto nessuna prova di per esempio di lettura oppure di organizzazione di un impianto vocale all'interno di una lezione per non parlare appunto degli strumenti visuali di cui ci siamo occupati in precedenza quindi l'insegnante digiuno da queste da questi studi non ha queste capacità e queste tecniche a meno che non le abbia coltivate per una sua passione magari nel corso degli anni ha capito si è esercitato ha visto degli effetti chissà ha frequentato dei corsi addirittura ma però tutto questo è lasciato all'inventiva dell'insegnante non esiste nessun sistema organizzato all'interno della scuola che sia volto a insegnarci qualche cosa di interessante dal punto di vista della comunicazione sotto tutti i suoi aspetti quindi arriviamo a un paradosso il paradosso è che nella scuola abbiamo un medium prevalente che però non è studiato non è approfondito che lasciatemi questa espressione non siamo in grado di utilizzare non lo sappiamo lo usiamo ma non sappiamo non lo sappiamo utilizzare tant'è che anche molti di noi dopo un po' di tempo soffrono anche ci sono anche delle malattie professionali politi eccetera eccetera e guardate che molte di queste malattie e disfunzioni derivano proprio anche dal non saper utilizzare la propria voce da non saperla neanche conoscere a questo proposito dopo chiudo una parentesi vi consiglio un libro molto interessante di una psicanalista che si chiama Laura Pigozzi ve lo posso segnare nella chat dunque tutti nella chat eccolo qua allora vi scrivo nome e cognome e titolo del libro quindi l'autrice Laura Pigozzi è una psicanalista e anche insegnante di canto la sua grande passione è il canto e ha scritto questo libro interessantissimo sul rapporto appunto tra psicologia inconscio la nostra personalità e la voce due cose che lei conosce molto bene in quanto in quanto appunto psicologa e psicanalista e in quanto cantante e insegnante anche di canto è una lettura interessante sulla quale mi fermo qui perché si potrebbe aprire un capitolo molto interessante ma che però esula poi dal nostro corso allora voi che cosa cominciate a fare con i vostri studenti abbiamo detto che la prima cosa da fare considerare con l'utilizzo della radio anche se per un semplice ascolto musicale quanto ascoltiamo il rapporto tra radio televisione poi potete proporre questo esercizio sul paesaggio sonoro quindi leggere in classe i racconti commentarli in modo più approfondito e con più tempo di quanto ne avessi avuto io a disposizione ma su questo svolgere proprio un un primo approccio un primo approccio al medium audio perché noi siamo talmente abituati ad utilizzare la voce che non ci soffermiamo sulla sua importanza e sulle sue caratteristiche ora però dovete anche sapere questo vi suggerisco ecco perché vi ho dato anche questa dispensa di riflettere con i vostri studenti sull'ascolto la capacità che abbiamo realmente di ascoltare e qui ci sono delle citazioni da un testo di Plutarco che già all'epoca pensate aveva scriveva sul fatto che c'era poco ascolto nella sua epoca si ascoltava poco si arrivava subito alle conclusioni si contestava subito quello che veniva detto non ci si prendeva il tempo di ragionare di dopo aver ascoltato di pensare e poi di rivolgersi anche gentilmente all'oratore a chi parlava e con rispetto ecco pensate già Plutarco parlava di tutto questo che è di grande attualità quindi una riflessione con i vostri studenti su questo tema secondo me è molto importante per arrivare dove? per arrivare al fatto che il paesaggio sonoro esiste esattamente come esiste un paesaggio fisico e pensate che per alcune popolazioni del pianeta il paesaggio sonoro ha più importanza del paesaggio visivo quindi dobbiamo fare in modo che i nostri studenti comprendano che anche che abbiamo a che fare con un altro tipo di paesaggio che è decodificabile come il paesaggio sonoro ad esempio gli Inuit gli Inuit attribuiscono un valore molto più importante all'udito che non alla vista se voi ditte a un Inuit ho visto questa scena lui non considera la vostra affermazione come un'affermazione importante e decisiva come quella di ho sentito questo non so se è chiaro per loro l'ascolto o per esempio per i i Caluli quest'altra popolazione australiana per loro l'ascolto è molto più importante della vista ora se noi andiamo pensate di essere in tribunale testimoni di un incidente stradale pensate che la vostra testimonianza si basa su questo signor giudice ho sentito arrivare l'auto da destra a sinistra e quindi sono certo che sia la 500 che è arrivata che io ho sentito essere una 500 ad avere investito quest'altra automobile ora il giudice non si metterà a ridere perché un giudice con la sua togga però certo che dentro di sé penserà che voi tanto a posto le rotelle non le abbiate se in un aula di tribunale la vostra testimonianza si basasse solo sul vostro udito è chiaro questo invece se voi diceste ma io l'ho visto ho proprio visto la 5 allora giudice se l'ha visto abbiamo una testimonianza impeccabile un mio amico un commissario di polizia mi raccontava che dopo una rapina in banca loro ascoltano le persone e non ci sono due persone dico due persone che fanno la stessa descrizione dei rapinatori che pure hanno visto non ce ne sono due dice che è normale questo è normalissimo dopo uno shock come quello appunto di aver assistito a una rapina a un evento sconvolgente un'aggressione per strada eccetera non concordare su quello che si è visto allora vedete che la cosa è molto curiosa da un lato noi facciamo affidamento alla vista come se questa il vedere qualche cosa sia una prova di verità assoluta d'altra parte quando dobbiamo testimoniare su un evento importante i testimoni discordano su quello che hanno visto pur avendolo effettivamente visto d'altra parte noi non diamo alcuna importanza al nostro dito ma proprio nella vita normale non diamo alcuna importanza al nostro dito eppure se io vi chiedessi anzi e ve lo chiedo e voi formulate la risposta se la stessa notizia la stessa identica notizia viene passata per televisione o alla radio a quale dei due strumenti voi date maggiore credibilità alla televisione o alla radio la stessa identica notizia la risposta ve la do io perché tanto rispondono sempre tutti così è la radio giusto? la radio è la fung la radio è la fung tutte le cretinate che dicono in tv qualcuno è portato a non credere a niente di quello che dicono ma soprattutto perché in tv voi vedete le persone vedete la falsità vedete la finzione nella televisione la vedete perché è di fronte a voi vedete questa gente che si inalbera oppure questa gente così narcisista che si propone oppure altri che vogliono comparire cioè vedete proprio nella radio no voi ascoltate la radio ha una sensazione offre una sensazione di maggiore credibilità eppure noi viviamo in una società nella quale la verità esiste nel momento in cui voi la vedete non la ascoltate nessuno da retta a quello che avete ascoltato ma a quello che avete visto ho ascoltato per strada che ma cosa hai visto la prima domanda è ma cosa hai visto va bene l'hai ascoltato ma cosa hai visto quindi questo non vuol dire che diciamo sia meglio l'udito rispetto alla vista non vuol dire questo però vuol dire che dobbiamo relativizzare le cose viviamo in una società delle immagini dove le immagini hanno una preminenza importante e questa loro funzione viene continuamente sostenuta ma ora per smontare anche tutto questo supporto alle immagini basti considerare che la lettura di un romanzo è sempre superiore alla visione di un film sempre sempre immancabilmente per quale motivo perché il romanzo è composto da significanti cioè se io dico togliamo queste immagini abbiamo un testo solo un testo senza è un romanzo d'accordo e nel testo c'è scritto Frank entra nel bar il bar anni venti lo descrive anche i tavolini in un certo modo eccetera chiede un whisky e inizia a bere io vedo che qui c'è non so Marianna Marianna avrà un'idea di questo Frank del whisky e del bar anche se io l'ho spiegata poi vedo che c'è Giovanni Cerrone e Giovanni ne avrà un'altra un'altra non può essere l'idea di Marianna perché non può essere l'idea di Marianna perché sono significanti bar whisky tavolino stile liberty cosa vuol dire tavolino stile liberty adornato con degli allori va bene sono anche preciso ma quanto sono grandi questi allori come come sono intagliati come il tavolino cioè tutte queste cose interagiscono con il vissuto di Maria con il vissuto di Giovanni proprio perché sono significanti e questi vissuti sono differenti essendo differenti e non essendo codificati nella descrizione abbiamo delle rappresentazioni diverse quindi che cosa vuol dire vuol dire che nella lettura di un romanzo di un racconto l'immaginario dei soggetti l'immaginario di Maria Anna di Giovanni di Liliana di Eipat di Teresa e di tutti gli altri è differente ed entra in gioco entra in gioco con la lettura l'immaginario entra in gioco cioè il lettore diventa un elemento prendete questa affermazione non come assoluta ma come relativa diventa un elemento del racconto perché è come se costruisse in parte questo racconto insieme alle nozioni che l'autore gli ha dato ci fosse un'opera costruttiva da parte del lettore stesso ora vedete lo stesso romanzo al cinema può essere il capolavoro più incredibile del mondo ma non corrisponderà mai al vostro immaginario perché perché è l'immaginario di qualcun altro anzi di un insieme di persone dello sceneggiatore del regista il direttore della fotografia del produttore bla 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 ma quando voi vedete Frank entrare nel bar e prendere un whisky quella immagine ha distrutto il vostro immaginario perché ora la rappresentazione di Frank per tutti è una sola prima la rappresentazione di Frank per tutti era una rappresentazione unica e speciale per ciascun lettore ecco perché i romanzi sono sempre la lettura è sempre superiore al cinema alla visione alla narrazione visuale sempre sempre non ho detto che la narrazione che la scrittura è superiore al cinema ho detto che la stessa opera è superiore da un punto di vista letterario rispetto a quello cinematografico perché se parliamo di opere uniche e diverse naturalmente abbiamo dei rapporti differenti il cinema l'immagine la fotografia bloccano la visione non ci possono essere equivoci se io dico che nel racconto Mario compra una rosa per Maria dal fioraglio eccetera io mi immagino una scena d'amore bella immagino qualsiasi cosa le rose e tutto il resto quando la vedo è finito perché sarà d'ora in poi sarà quella rosa lì ecco il motivo per cui noi tutte le volte usciamo da un cinema da un film dopo aver letto un romanzo diciamo carino bello bel film eccetera però non abbiamo le stesse espressioni entusiaste che magari abbiamo espresso durante la lettura di un romanzo ora con la voce è la stessa cosa capita la stessa cosa perché con la voce io vi leggo sentite un audiolibro sentite qualcuno parlare non lo vedete e voi dovete in qualche modo reificarlo trasformarlo in un oggetto concreto come fate a trasformarlo in un oggetto concreto beh attraverso la vostra immaginazione il vostro immaginario che trasforma quel significante in un significato allora vi sarà mai capitato per esempio non so di avere un presentatore una presentatrice preferita magari avete pensato guarda questa qui ha una voce così sarà fatta in questo modo i capelli corti magra oppure sarà piuttosto robusta perché ha una voce di un certo tipo vi siete fatti un'immagine poi in qualche fiera festival manifestazione eccetera l'avete incontrata e siete rimasti delusi non delusi in quanto bellezza o bruttezza ma delusi in quanto stereotipo che vi siete creati voi cioè non corrisponde quella persona non corrispondeva a quello che voi avete immaginato aveva una voce così così potente così calda vi immaginate una persona grossa un uomo non lo so con dei bei polmoni e vi trovate davanti un mingerlino smilzo con questa voce incredibile ve lo immaginate di una certa età né a un'altra e così via questo è l'effetto è l'effetto della voce nel nostro rapporto nell'immaginario ma questo effetto comporta una serie di conseguenze particolarmente interessanti per esempio uno degli effetti più significativi del podcast e della radio rispetto all'immagine tv animazione film eccetera è nello stabilire un rapporto intimo tra l'ascoltatore e la trasmissione un rapporto che non esiste in tutti gli altri casi vi faccio questo esempio voi siete in auto accendete la radio e sentite una trasmissione qualcuno che parla commenta poi c'è la telefonata da casa giusto? poi c'è un po' di musica e intanto andate avanti dove si trova la radio? la radio intanto si trova nello stesso vostro abitacolo è davanti a voi gli altoparlanti sono intorno a voi siete avvolti da questo suono quindi avete un primo elemento che è quello della vicinanza chi parla chi parla può essere distante 5.000 km ma voi l'avete nel vostro abitacolo e lo ascoltate e potete anche fare un'altra cosa mentre ascoltate potete guidare mentre invece non potete guardare la televisione mentre guidate io personalmente ve lo sconsiglio ma ve lo sconsiglio anche il codice della strada tra l'altro quindi che ha più valore della mia parola però non potete fare questo quindi questo vuol dire intanto che la televisione è un luogo a bassa definizione bassa definizione perché? perché interessa più sensi bassa definizione vuol dire che non colpisce nessun senso in particolare mentre invece la radio e il podcast sono ad alta definizione perché interessano un organo solo interessano un organo solo e lasciano liberi anche di fare altre cose tra l'altro con la radio abbiamo un ascolto che può essere definito anche fluttuante ma questo vabbè diciamo sono dei dettagli giusto per capire che esistono delle differenze importanti la radio è un medium secondario è un medium secondario proprio perché consente di svolgere anche altre operazioni la televisione no richiede l'attenzione infatti negli ultimi anni che cosa sta succedendo sta succedendo che alcune trasmissioni televisive cercano di assomigliare di più a delle trasmissioni radiofoniche per consentire a chi non può vedere anche solo di ascoltare perché altrimenti perdono di rilevanza perché costringono lo spettatore a concentrarsi sulla televisione dunque la televisione sta imparando dalla radio non il contrario McLuhan che voi avete sentito nominare aveva fatto una previsione sbagliata trent'anni fa aveva detto che la televisione avrebbe vinto sulla radio e sarebbe stato un mezzo che avrebbe inglobato tutto non è successo questo non solo non è successo ma sono aumentate è aumentato molto l'ascolto radiofonico e l'importanza della radio rispetto alla televisione proprio per questo motivo per questi motivi nella televisione nell'immagine non c'è un rapporto che si costruisce non hai la sensazione di appartenere a una community a una comunità anche se la televisione ha cercato di introdurre dei mezzi tipicamente radiofonici tipo appunto le telefonate tipo una presenza esterna allo studio stesso ma in ogni caso è basato sulla visione e quindi non hai la possibilità con il tuo immaginario di sentirti parte di una comunità voglio dire nel momento in cui tu vedi della gente in studio la comunità è di quella gente lì tu sei fuori da quella comunità perché tu sei nel salotto di casa tua non sei dentro la community della trasmissione televisiva non sei lì con loro quindi l'immagine separa l'immagine separa gli ambienti perché li distingue mentre invece la radio e l'ascolto li unifica anche se fai didattica a distanza l'avete provato con tutti i monitor spenti o anche camminando per strada come facevo io ai giardini con i miei studenti semplicemente parlando non si perdeva il senso della community anzi il senso della community lo spazio e l'intimità dell'ascolto aumentavano aumentavano proprio perché non c'era la visione e aperta parentesi obbligare alla visione secondo me non è stata una cosa positiva proprio perché non si è saputo sfruttare invece sfruttare le opportunità che l'ascolto di tipo radiofonico e podcast ti portava da un punto di vista relazionale allora tutti questi sono elementi molto importanti che distinguono i medium visivi dai medium uditivi e su questo io vi ho lasciato una lettura molto impegnativa perché è un testo universitario che io ho scritto per dei master universitari che ho condotto per una decina d'anni su questi temi quindi non è agevole come lettura però è esaustiva spiega proprio tutti questi processi se chi di voi ha voglia di leggerlo e di tradurne delle parti per i suoi allievi per discutere per delle riflessioni eccetera una riflessione su queste tematiche è molto importante poi vi ho lasciato anche questo piccolo documentario che potete poi guardare lo potete guardare anche in classe potete anche fare delle ricerche cercate delle ricerche su paesaggio sonoro troverete troverete molte cose scusa Alberto io ti avevo scritto anche in privato in merito al tuo ebook linguaggio e narrazione stai parlando di questo? sì ecco a me dice mi ha chiesto l'indirizzo ma mi viene mandato a casa o è un ebook che posso scaricare? no no è un ebook che scarichi è un ebook che scarichi sì sì tu compili il modulo e scarichi l'ebook che ho compilato tutto e mi ha dato l'ordice grazie per il tuo ordine però eh adesso ti è arrivata una mail una mail che ti dice come scaricare il libro ah ok allora aspetto poi ti farò sapere grazie a meno che tu non abbia commesso qualche piccolo errore nella scrittura della mail ah no non credo vabbè comunque stiamo a vedere eh grazie scusa mi se ti ho interrotto ok Alberto posso scusa ma questo è a proposito sì dimmi dimmi io ho provato a scaricare il libro proprio stamattina però mi chiede la partita IVA e non sono riuscita ad andare avanti non so perché no perché ti chiede la partita IVA sì anche se metto chiede la fatturazione eh esatto il codice fiscale sì l'indirizzo di tutti i casi io ho compilato tutto però mi appare rosso chiedeva se è un privato o un'azienda forse avete messo azienda per questo eh ma certo no 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 anche se metto privato mi appare rosso ho provato a chiudere a riaggiornare mi appare rosso e mi dice comunque che devo inserire una partita IVA e non sono riuscita ad andare avanti poi ci riprova no riprova perché ai privati non chiede niente chiede solo mi è sembrato strano chiede solo il nominativo e l'indirizzo me a me appena arrivato grazie sì ok grazie allora l'ultima cosa poi abbiamo un'oretta per fare qualche esercitazione ma eh che appunto saranno poi molto semplici radio e podcasting no ehm c'è ancora una differenza importante tra radio e podcasting quindi abbiamo chiuso l'argomento radio podcasting televisione cinema immagini apriamo quello radio e podcasting allora la radio oggi non è uno strumento democratico attenzione a questa affermazione non è uno strumento democratico perché perché nessuno può oggi aprire una radio nessuno se Marianna che vedo qua in video molto interessata con i suoi begli occhiali domani mattina volesse aprire una radio io dico a Marianna se tu hai qualche centinaia di milioni di euro forse forse lo puoi fare perché perché per aprire una radio oggi Marianna deve comprare una frequenza e le frequenze sono tutte vendute pensate hanno venduto l'aria incredibile hanno venduto sapete che vogliono vendere anche l'acqua l'aria l'hanno già venduta perché non ci sono frequenze libere cioè lei non può dire adesso creo la mia stazione radio sui 96 e 324 me no no è comprata deve convincere il proprietario a vendergliela per molti centinaia di milioni perché queste frequenze il podcasting invece non passa via etere non hai bisogno di un'antenna ma passa via internet non ci sono frequenze da comprare quindi il podcasting è gratuito non richiede autorizzazioni per aprire una radio voi dovete chiedere assumere assolvere tutta una serie di procedure presso il ministero delle telecomunicazioni per i podcast no il podcast è uno strumento veramente libero di comunicazione c'è anche una differenza importante tra il podcast la radio e altri sistemi di comunicazione e cioè siccome al podcast io mi abbono mi abbono e quindi ricevo ricevo le trasmissioni sul mio dispositivo il podcast è normalmente sicuro come come posso spiegarlo culturalmente sicuro cioè chi apre un podcast apre un podcast che è suddiviso in episodi che parlano di un certo argomento per esempio non so Liliana Serelli che vedo qua tra i partecipanti potrebbe aprire un podcast su non so la letteratura giapponese dell'epoca Ming che ne so una roba così non è appassionata di questo va bene allora io che sono appassionato di questo tipo di letteratura so che abbonandomi al podcast di Liliana sono sicuro di quello che ricevo cioè non ricevo un episodio sulla pesca in alto mare tra le balene polo nord e non ricevo un podcast su Adriano Celentano negli anni 60 perché lei è un'appassionata di di quell'argomento e quindi parlerà di quell'argomento farà una trasmissione al mese uno ogni tre mesi uno ogni settimana non lo so ma parlerà di quell'argomento io mi abbono e sono tranquillo sono tranquillo perché so a che cosa mi sono abbonato mi abbono al podcast di Piero Angela e so benissimo che si parlerà di documentari geografici eccetera eccetera quindi il podcasting è uno strumento fedele gratuito completamente gratuito che non richiede sistemi particolari più potente oggi della radio perché oggi il podcasting ha anche la diretta e a differenza della radio la diretta del podcasting è mondiale mentre io se ascolto una radio locale la mia diretta sarà a Milano sarà a Caserta ma se esco di lì la perdo e se è una radio nazionale se vado in Slovenia la perdo il podcasting invece è mondiale se io parlo in lingua inglese e comunico su internet a tutti i miei follower di tutto il mondo che domani sono in diretta alle 10 in questo podcast mi possono ascoltare in diretta dalla Cina agli Stati Uniti fino al mio vicino di casa quindi ecco che il podcasting è una rivoluzione è una rivoluzione fenomenale è una rivoluzione che mette nelle mani di tutti la possibilità di costruire una radio di costruire un palinsesto perché perché se uno di voi non so Giovanni Cerrone si mette d'accordo con i pad di Anna Maria Grazia e Gabri Guerre eccetera vogliono fare un palinsesto suddiviso in categorie con episodi eccetera lo possono fare che cosa hanno fatto? Hanno fatto una radio creano la cover la copertina i loro dépliants danno via la loro comunicazione loro comunicano ed è una comunicazione molto potente molto più potente dei messaggi di Instagram o di Facebook molto più potente proprio perché si basa su questo medium che è la voce che è coinvolgente nel modo in cui vi ho spiegato prima e che crea dall'impressione proprio di creare questa community questa è io ho finito con questa introduzione che è stata lunga ma era indispensabile perché altrimenti voi non avreste avuto la comprensione necessaria benché ancora insufficiente del significato reale di questo strumento e quindi anche di come affrontarlo poi in classe adesso passo a spiegarvi qualche cosa di tecnico vedrete molto semplice che vi mette nella condizione di operare ci sono delle domande delle questioni su questo? no no Alberto è stato tutto chiaro? tutto chiaro tutto chiaro tutto chiaro grazie pensate che mi sono dilungato troppo su questo tema? no ha servito no no ok allora adesso siamo stati tutti attenti Alberto sì infatti sentivo allora adesso questo l'abbiamo fatto cosa manca? ah il format del podcasting perfetto adesso io vi assegno questo materiale che è il format del podcasting allora abbiamo parlato volete fare cinque minuti di sosta per il caso? sì dai sì allora vi ho mandato questo materiale se volete ci date un'occhiata se no ve lo spiego io adesso parliamo della struttura del podcast cioè che cos'è un format che cos'è un clock che cos'è una stagione cosa sono gli episodi e naturalmente come si creano va bene ci vediamo tra cinque minuti sette minuti così facciamo dieci va dieci minuti va bene ok va bene a dopo grazie ciao 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 Grazie a tutti. 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 Perfetto. Perfetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. un podcast. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. I ragazzi. I ragazzi costituivano dei nuclei redazionali di tre persone. e svolgevano una sintesi. E svolgevano una sintesi della durata di un minuto, due minuti di quello che si era fatto in classe. Quindi era un format particolare. Era un format basato sul riepilogo, però attraverso un sistema radiofonico, quindi tre persone che interloquiscono fra loro, dei contenuti che si erano affrontati nelle ore dedicate a tecnologia. Un altro format molto interessante è quello della talk lesson. La talk lesson deriva dal format di tipo talk della radiofonia, cioè libera discussione, telefonate da casa, presenza di esperti. Buongiorno, sono Maria, volevo sapere che cosa ne pensa però di questi pinguini, se veramente hanno un linguaggio, se si può descifrarlo. Allora diamo la parola all'esperto, qui il dottor, vai a capire, come si chiama, che ci parla e dice questa cosa. Poi c'è una docente di non so dove che risponde anche a un'altra questione, eccetera, eccetera. Però c'è una divergenza, i pinguini il linguaggio sì, il linguaggio no, come mai, ma è un alfabeto, non è un alfabeto, eccetera, eccetera. Questo è il modello talk, cioè un modello da salotto, da discussione, da confronto libero, che è appunto molto interessante per questo. Allora, ecco come si progetta un podcast. Ve lo mostro così, a video. Queste sono dei format, talk e dibattito, cultura, arte, news, sport, tutorial, per esempio lezioni di lingua straniera. Questi sono dei format, cioè delle strutture organizzate, che hanno un diverso scopo e funzionamento. Questi sono esempi di clock. Allora, così capite che cos'è un clock. Se io scelgo come format il talk e dibattito, il clock sarà musica, poi l'attacco dello speaker. Quindi musica, paparapana, paparapana, attacco dello speaker. Buongiorno a tutti e benvenuti cari ascoltatori a Radio Bellezza e Creatività. Allora, la domanda che ci poniamo oggi è se esiste una bellezza oggettiva alla quale tutti si possono ispirare. Chi ha una risposta? Diamo la parola al nostro esperto Giovanni, non so chi è, eccetera, il quale risponde. Dice sì, esiste una bellezza assoluta, è quella della natura. Noi ci ispiriamo alla natura. Allora, abbiamo una domanda dal pubblico. La domanda dal pubblico dice sì, ma la natura, però, cosa comprende? Anche l'architettura può far parte della natura, eccetera. Risposta, ecco qui, che risposta possiamo dare? Un altro ascoltatore potrebbe rispondere a questa domanda. Sono un architetto, voglio dire che gli artefatti umani a pieno titolo fanno parte dell'ambiente, ma in questo caso non è un ambiente naturale, è un ambiente costruito all'uomo, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, stacco. Opinione. Qui interviene l'opinione di una persona autorevole, per esempio. E poi si possono leggere delle news, sentire degli esperti e concludere con una domanda e la risposta. Questo è il clock. Cioè, cosa vuol dire clock? Clock vuol dire questo. Vuol dire che tu hai un tempo della trasmissione, quindi insegnante, con i tuoi studenti, tu deciderai quanto tempo assegnare. Guardate che io vi dico che 5 minuti, 10 minuti sono più che sufficienti, quindi qui anziché avere una scansione di 5 minuti o 10 minuti per arrivare a un'ora, avrete una scansione magari in secondi, 15 secondi, 30 secondi, 45, eccetera. E dovete stabilire che cosa succede a ogni punto cruciale. Quindi, primi 15 secondi, introduzione. Poi da 15 secondi a 45 secondi, da 15 secondi a 25 secondi, domanda. 10 secondi per la domanda, 20 secondi per la risposta, poi 10 secondi per un'altra domanda, poi 20 secondi per la chiamata da casa e organizzate il clock. Questo clock che parlerà, di cosa abbiamo parlato, dei linguaggi dei pinguini, quindi che parlerà di lingue, lingue degli animali. Va bene, voi fate un podcast al cui interno c'è una categoria di trasmissione che si chiama linguaggi degli animali. E un episodio sarà sui pinguini, un altro sui delfini, un altro sulle scimmie, gorilla, eccetera, eccetera. Tutti questi episodi sono uguali nel clock, cioè hanno esattamente la stessa identica scansione. La studiate, fate delle prove in classe e voi avete un prodotto professionale. Format, avete scelto talk e dibattito e clock. Questo è quello che avete stabilito. Oppure format, tutorial, lezione, lingua straniera, quindi introduzione, qualche minuto di lezione, stacco, riepilogo, qualche minuto di lezione, stacco, riepilogo. In totale dieci minuti. Per esempio, non so, genitivo sasso nelle sue applicazioni. Voi avete un episodio che dura dieci minuti su questo tema. Con l'introduzione, una lezione, stacco, riepilogo, possono esserci delle variazioni. Anziché stacco, riepilogo, cioè stacco, riepilogo, va bene. Ma poi anziché qualche minuto di lezione, potrebbe esserci, non so, casi speciali e domande. Il clock lo decidete voi. La rappresentazione del clock, vedete, può essere anche questa. ADV vuol dire pubblicità, musica, conduzione, musica, eccetera, eccetera. Vedete, questi sono esempi di clock. I clock, nuovamente, sono rotondi, perché vengono rappresentati come un orologio. Il tempo è stabilito da voi, voi stabilite appunto se la trasmissione deve durare dieci minuti o un'ora o cinque minuti. Se decidete che la trasmissione dura cinque minuti, è tassativo, dura cinque minuti. Se decidete che dura dieci minuti, dura dieci minuti. Oppure decidete un tempo libero, e vabbè, una dura dieci minuti, l'altra un'ora, una cinque. Però non è educativo. È educativo rimanere all'interno di un tempo predefinito. Perché è educativo? Perché innanzitutto voi potete insegnare i vostri ragazzi a scrivere il testo della trasmissione. È vero che siamo in Italia, quindi paese di poeti, cantanti, naviganti, eccetera. E del karaoke anche. Quindi avrete degli studenti, e voi stessi anche magari sarete bravissimi nel prendere il microfono in mano e buttarvi subito. Però non è educativo questo. Noi dobbiamo fare... Perché questo lo sanno già fare, lo sanno fare tutti. Quello che noi dobbiamo invece insegnare ai nostri studenti è organizzare il clock e stare dentro il clock. Quindi, se io devo raccontare un film che ho visto al cinema, un romanzo, una lettura, no? Podcast di narrativa. Narrativa con trame e discussioni dei libri e dei film visti. Bello. Va bene? Un quarto d'ora di trasmissione interessante. Però dobbiamo stare dentro questi 15 minuti. E se Mario Lino ha a disposizione 45 secondi per raccontare la trama di quella storia, sono 45 secondi. Mario Lino deve scrivere. Deve sapere... che una cartella, 1800 battute, corrisponde a circa due minuti di lettura. Quindi questi dati magari ve li fornisco. Ecco, non ho pensato a darveli, ma vi do una scheda. Vi mando una scheda con i dati che corrispondono al tempo che occorre leggere una cartella. Quindi su questa base vi sapete regolare. Lui scriverà il suo testo. Voi gli insegnerete anche a scrivere, perché non è semplice. Non è semplice scrivere un testo all'interno di un determinato quadro. Pensate a Twitter, per esempio. 300, cosa sono? 300-350 caratteri. Ecco, quello corrisponde a 45 secondi. Poi che cosa farà Mario Lino? Allora, Mario Lino ha due possibilità. o legge il testo che ha scritto. E allora voi gli insegnerete a leggere questo testo. Perché? Perché questa lettura deve avere una impressione spontanea e orale. Siamo alla radio, no? Quindi deve leggerlo in modo così esuberante, facendo anche errori. Non è semplice. Oppure lui utilizza questo testo per dire le stesse cose, senza ripeterlo, stando all'interno di 45 secondi. Cioè usa il testo come traccia. Però non date una traccia. Perché guardate, una traccia va bene per scrivere un tema, un saggio, no? Scrivi punti, premessa, quello che dice Piero Angela, poi la citazione in quest'altro e va bene. Ma non va bene quando parli. Perché quando parli, la traccia ti distrae. Se hai dei punti scritti, ti distrae. Se tu invece un testo suddiviso per paragrafi che hai già letto e studiato prima, ti basta dare un'occhiata a tutto il paragrafo e sai cosa devi dire, lo dici. Poi a quell'altro, poi l'altro paragrafo, poi arrivi alla fine e sai cosa devi dire, lo dici. È più semplice. E sviluppi due competenze. La competenza di scrivere e la competenza di tradurre quello che hai scritto, tra l'altro. Poi ci sono delle competenze collaterali che sono quelle di saper divulgare, di essere sintetici, di utilizzare, per esempio, gli aggettivi, i verbi in un certo modo. Quindi via le forme passive, che sono lunghe, mai usare due o tre verbi quando ne puoi usare uno solo. Quindi forme semplici, soggetto, predicato, complemento oggetto, frasi che arrivano subito all'attenzione, pochi giri di parole, metafore, metafore molto importanti, insegnare a creare delle metafore e così via. Quindi è proprio un arricchimento. L'oralità è un arricchimento del linguaggio anche scritto. Dunque, il podcast va proprio creato in questo modo. Ve lo ripeto, quindi, la scelta del format e il format sono quelli radiofonici. Ascoltateli, sentiteli. News Sport, per esempio, è completamente diverso da talk e dibattito, da cultura arte, eccetera. Quindi cultura arte, annuncio di un evento, opinioni di esperto, recensioni, indicazioni per seguire l'evento. Normalmente non ci sono telefonate da casa. Non si discute su un evento culturale, artistico, eccetera. Però si può discutere su un romanzo, sulla trama, eccetera, eccetera. Ok, vi è chiaro questo? Avete capito? Clock e format. È molto importante questa cosa. Sì, certo. Benissimo. Allora, progettato tutto questo, che cosa fate? Cioè, che cosa avete progettato? Voi avete progettato il podcast, poi avete progettato il format e il clock dei vari episodi. Quando avete fatto questo, voi vi iscrivete su Spreaker, che oggi è il servizio migliore che esista per tantissimi motivi, soprattutto didattici, per la creazione di podcast. Meglio di SoundCloud e di tanti altri. Voi vi iscrivete a Spreaker. Allora, Spreaker offre dei piani e dei servizi. Se la scuola è interessata, se la scuola è interessata, può acquistare anche questo a 20 euro al mese, per dire 8 euro al mese. Ma c'è anche il piano gratuito, chiaramente. Sì. Ok. Voi vi iscrivete, scegliete il vostro piano gratuito e poi entrate. Eccolo qua. Impostazioni dell'account. Mettete la foto. Che cos'è la foto? Direi che la foto è la cover, l'immagine del podcast, il marchio del podcast. Quindi create un marchio. Scrivete il nome del vostro podcast quindi per esempio se il podcast riguarda la geografia trovate qualche bel nome, oppure la vita nel nostro paese, paesino di campagna, che ne so, quello che volete voi. Un bel nome che identifichi proprio bene il vostro podcast. Poi che cosa fate? Poi gestisci i tuoi podcast, quindi cominciate. Qui dovete prestare molta attenzione a quello che vi spiego adesso, perché è molto semplice, ma può darsi che per voi sia una novità questo tipo di struttura. E se non la capite, potreste avere delle difficoltà poi nell'organizzazione delle vostre trasmissioni. Allora, guardate che, per esempio, qui abbiamo questo, va. L'America è un paese da svaliggiare. Questo è un podcast. È un podcast che si chiama L'America è un paese da svaliggiare. Cioè è una categoria, in realtà, all'interno del podcast che si chiama, l'abbiamo visto prima, il mio podcast si chiama Your Storytelling Sburn e all'interno di questo podcast c'è... ci sono diverse categorie. Quindi il podcast è uno, ma le categorie sono diverse. Questo è anche molto importante perché potete suddividere il vostro podcast in diverse categorie. grammatica, non so, matematica, fisica, astronomica, quello che volete, no? Potete farne due o tre. Allora, a questo punto vediamo come è sviluppato. Quindi abbiamo in L'America è un paese da svaliggiare, abbiamo degli episodi, otto episodi. in questo caso, otto episodi. Questi episodi sono identificati da un titolo, titolo, introduzione, eccetera, poi il podcast a cui si riferisce, perché vedete che io all'interno del mio account posso creare, come vi dicevo, diverse categorie che chiamiamo di nuovo podcast, anche se non è esattamente corretto, però chiamiamole pure podcast come fa lui. Una volta che io ho creato un episodio, lo posso anche spostare da un podcast all'altro o posso attribuirlo anche a più podcast. Poi guardate che cosa succede, che ho una stagione, cioè io posso creare la prima stagione dell'America è un paese da svaliggiare, ho creato i primi otto episodi di quella stagione. Quindi quando creerò un nuovo episodio, dirò che sarà, cioè non episodio, in realtà sarà il primo della seconda stagione, e così via. Dunque interessante questa suddivisione, perché io non l'ho utilizzata qua, ma consente di creare all'interno di un podcast diverse stagioni con i suoi episodi. Poi dovete stabilire se è pubblico, se è privato, quindi chiaramente potrebbe anche essere privato. Ad esempio, voi potete svolgere dei colloqui con i vostri allievi che rimangono a voi, rimangono alla classe, però li registrate. Li registrate perché possono essere utili per tutti, per esempio determinate correzioni, indicazioni, così, che voi potreste aver sviluppato in classe per singoli studenti, e potrebbe essere interessante ascoltarli tutte, che tutti li ascoltino, ma li possano riprendere durante l'anno, ma può darsi che non siano degli episodi poi così ascoltabili da un pubblico più vasto. Poi c'è la foto. La foto di che cosa? Qui abbiamo la foto di questo episodio, che tra l'altro è anche la foto della copertina. Quindi voi poteste avere una foto diversa, un'immagine diversa, per ogni episodio, oppure la stessa immagine per la copertina proprio del podcast. Quindi stavamo parlando dei podcast differenti che abbiamo creato all'interno del nostro Deacon Spreaker e vedete che ognuno ha una sua copertina. Io non sono stato a creare delle copertine per ogni episodio. Torniamo al nostro L'America è un paese da svaligiare e prendiamo, per esempio, questo altro episodio che in realtà ho distinto con un'immagine diversa. quindi sì. Ah, vedete? No, sì, infatti no, in questo podcast io ho cambiato l'immagine di riferimento per ogni episodio. Perché? Perché questo è un podcast narrativo che ho creato spontaneamente durante un viaggio per fare delle fotografie a New York e così mi sono inventato una storia mano a mano che viaggiavo e andavo in giro a fare foto. Quindi ci sono delle mie foto che corredono questo podcast. Questa è la struttura. Quindi voi dovete compilare questi campi dopo averlo recitato o registrato. Poi gli annunci io li tolgo perché non voglio che il mio podcast abbia dei proventi a pagamento neanche voi lo volete la scuola tra l'altro non lo consente non è corretta una cosa così ma nel caso in cui voi voleste guadagnare dei vostri podcast sappiate che potete aprire un account su Spreaker per conto vostro e naturalmente ottimizzare tutte le pubblicità Spreaker manderà le pubblicità e vi pagherà in funzione del numero di ascolti. Però è una cosa che a me non interessa. Condivisione automatica eventualmente su YouTube su SoundCloud qui basta condividere e collegare e siamo a posto. Poi potete sostituire in qualsiasi momento il file audio. Questo è molto importante perché è tipico che a scuola a me non è capita sovente che a scuola poi i ragazzi ascoltano e dicono però avrei potuto esprimermi meglio però non mi piace come mi sono sono stato registrato eccetera eccetera perfetto non c'è niente di meglio che rifare la registrazione. È un esercizio quindi ottimo. possiamo sostituire l'episodio e senza modificare il link di ascolto. Questo è molto importante se no noi dovremmo continuamente interloquire con gli ascoltatori guarda che quell'episodio ha cambiato il link da un'altra parte bla 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 per esempio YouTube non consente di fare questo con i video di YouTube se tu ti hai commesso degli errori e vuoi sostituire il video non lo puoi fare con Vimeo sì per esempio va bene basta fondamentalmente abbiamo eccolo qua qui abbiamo le impostazioni no questa è un'impostazione del profilo e poi l'amministrazione basta siamo a posto non abbiamo nient'altro adesso vediamo come si registra un podcast quindi mi sembra che qui abbiate capito tutto non c'è molto da dire quello che è importante capire è proprio l'organizzazione del podcast cioè noi creiamo un podcast qui crea un nuovo podcast poi carichia una volta che abbiamo creato il podcast chiede il titolo la lingua la categoria l'immagine di copertina poi se pubblico privato è una descrizione il podcast una volta che abbiamo creato il podcast come questo l'america è un paese a svaliggiare poi che cosa facciamo possiamo dire importa episodio oppure registra un episodio lo possiamo fare dal mac e scarichiamo l'app e lo registriamo o da windows dove volete voi o dal nostro tablet tablet l'applicazione per registrare è sempre la stessa è uguale l'interfaccia è uguale che usiate windows che usiate mac ipad o un tablet samsung o qualsiasi altra cosa l'interfaccia è uguale quindi potete sempre aggiungere un episodio praticamente dicendo registra un episodio e basta o una cosa che devo dirvi è la pubblicazione del podcast dove va pubblicato beh il podcast va pubblicato prima di tutto nei servizi di podcast cioè va pubblicato in iTunes che è il principale distributtore di podcast al mondo di Apple e va pubblicato in Soundcloud che è un altro grande distributtore di podcast ovviamente siccome l'avete aperto in Spreaker resterà in Spreaker l'America è un paese da svaliggiare eccolo qua come appare all'utente il podcast podcast di Alberto Pian la spiegazione poi ascoltate l'introduzione il più grande colpo della storia eccetera eccetera qui sotto avete di nuovo gli strumenti di ascolto questo è quello che appare notate che questo podcast cioè podcast Alberto Pian l'America è un paese da svaliggiare lo potete ascoltare su Spreaker che è quello che stiamo facendo su Apple Podcast allora facciamo click e si aprirà su Apple Podcast eccolo qua perfetto poi lo puoi ascoltare su Spotify si apre anche Spotify poi lo puoi ascoltare su altri strumenti e servizi perché questo perché quando tu crei un podcast Spreaker ti chiede lo vuoi pubblicare anche su Apple Podcast su Spotify su Google Podcast eccetera e tu dici sì 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 perché più si diffonde e meglio è quindi vedete che è un gran bel servizio proprio perché lo puoi distribuire anche facilmente in tutto presso tutti i servizi fino qui è chiaro avete delle domande perché adesso passiamo alla parte di registrazione che sono quattro fesserie come vedrete pronti? ci siete? ci foste? ci sareste? sì sì ci sareste? sì 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 bene siamo qui siamo qui siete lì? sì sì molto bene allora adesso condivido il mio iPad ditemi se lo vedete no? chiaramente adesso due secondi lo vedete? sì 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 sì? perfetto si vede si vede ottimo no però io sto registrando giusto? sì quindi se registro però così non si vede devo condividerlo in altro modo attenzione no devo condividerlo dall'interno qui quindi lo devo condividere da qua perché altrimenti non viene visualizzato nella registrazione di zoom quindi nuova registrazione è filmato con quick time ci becchiamo il nostro eccolo così adesso invece lo verrà registrato a schermo bene dunque osservate che l'applicazione è questa Spreaker Spreaker Podcast tap dice non hai ancora nessun pod non c'è niente va bene non c'ho nulla no just a moment no questo è per ascoltare la registrazione avviene attraverso un'applicazione che si chiama REC Studio segnatevelo si chiama così REC studio Spreaker eccolo qua se voi digitate Spreaker avete le due applicazioni come le scaricate queste due applicazioni le scaricate da Google Play le scaricate da iTunes no come si chiama da Apple come si chiama lì dell'applicazione Apple Apple Store ecco si Apple Store ecco esatto brava e le scaricate anche da Spreaker perché da Spreaker avete tutti i link per scaricare le applicazioni quindi questa va bene serve per ascoltare i podcast e registrarsi i podcast e questo invece serve per registrarli quindi apriamo REC Studio come si presenta REC Studio dunque bozze non ne abbiamo podcast lui perché dobbiamo fare l'accesso io l'ho già fatto l'accesso e quindi lui cosa fa qua mi dà su questa angolazione su questo lato i podcast che voi avete visto anche qua vi ricordate su di stessi no? vedete sono solo due modi di visualizzare diversi qui li abbiamo addentro l'applicazione Spreaker via internet e qua invece li abbiamo tramite l'iPad e la sua applicazione vediamo se c'è l'America è un paese da svoliggiare c'è eccolo qua abbiamo tutti gli episodi abbiamo anche dove sono distribuiti questi episodi benissimo in tutte queste piattaforme fantastico e a questo punto diciamo che io voglio registrare un episodio va bene abbiamo creato il nostro podcast c'è tutto c'è la descrizione la cover ci riuniamo con i nostri studenti abbiamo deciso il format quindi format radio talk per esempio abbiamo deciso il clock durerà due minuti la trasmissione pronti via partiamo dove partiamo? beh partiamo dal tasto rec non so se voi avete mai visto i vecchi registratori a cassetta c'era il tasto rec eccolo qua il tasto rec qui in basso quindi io schiaccio il tasto rec la prima cosa che mi chiede è se vogliamo trasmettere in diretta oppure registrare quindi siamo proprio dentro una radio a tutti gli effetti possiamo avere la diretta ovviamente per avere una diretta efficace noi dovremmo comunicarlo prima cioè dovremmo dire un paio di settimane prima che giorno che sabato non so che tre settembre ci sarà alle ore dieci la diretta su questo tema l'America è un paese da svaliggiare la storia di un gaster che dall'Europa arriva in America per metterla in ginocchi oppure registriamo registriamo e poi pubblicheremo in un secondo momento allora registriamo qui siamo in registrazione lui dice vedete quindi la dobbiamo interrompere subito questa registrazione perfetto e dobbiamo sistemare un po' di cose qua osservate che prima di tutto abbiamo due piste due piste a cosa servono queste piste queste piste servono per la colonna sonora adesso vediamo di riprendere la condivisione facendo in modo che sentiate anche l'audio che arriva dall'iPad quindi per esempio come colonna sonora eccola qua una non so se la sentite forse no non si sente non si sente no non si sente vabbè non si sente ma comunque c'è la elimina la registrazione va bene si sente perché l'audio è della ricezione non attiva quindi microfono standard acquisire il sistema quindi così dovreste sentirlo sono problemi di zoom non si sente vabbè non importa comunque sta andando la colonna sonora quindi voi che cosa fate inserite due colonne sonora oppure la stessa sia da questa parte che da quest'altra attraverso il tasto più quindi dovete tramite file vedete l'opzione file dovete avere sull'iPad delle colonne sonore da qualche parte che andate a pescare in Dropbox andate a pescare dove le avete sistemate e le preparate quindi le inserite sia qui che qui potrebbero essere anche due diverse ho tenuto la stessa perché la trasmissione magari vedete qua dura due minuti due minuti questo un quattro minuti di trasmissione gioco su uno e sull'altro potete collegare un microfono oppure utilizzare l'iPad così com'è si sente bene lo mettete al centro tre o quattro studenti intorno a un classico tavolo che con l'iPad al centro piatto e lui riceve molto bene oppure se volete potete collegare un microfono adesso poi vi manderò qualche indicazione tecnica ma comunque su Amazon ne vengono veramente tanti di tutti i tipi un microfono USB omnidirezionale in modo che prenda un po' tutti i soggetti intorno al microfono posso farti una domanda? cosa fate? posso farti una domanda? scusa? no dovete partire con la vostra registrazione quindi vediamo se avete un microfono integrato e che cosa succede poi con questo equalizzatore uno di voi intanto deve connettersi all'iPad con delle cuffie adesso io ho gli Airpods vanno bene altrimenti anche delle cuffie con un filo perché? perché deve deve sentire proprio la musica le voci che tutto funzioni bene poi aprite l'equalizzatore questo l'autoducking che cos'è l'autoducking? è che quando uno parla il livello del sottofondo musicale si abbassa automaticamente stabilite voi l'intensità di questo autoducking quindi di quanto si deve abbassare se si deve abbassare poco o si deve abbassare tanto il livello musicale l'autoducking diciamo non sempre funziona benissimo perché quando io smetto di parlare tende a ripartire subito di colpo quindi è preferibile secondo me utilizzare utilizzare un controllo manuale con questo fader per esempio perché se lo spostate sulla sinistra avrete tutta la la colonna sonora che parte al massimo del volume perché tutta vedete tutta la disposizione del cursore è a sinistra quindi vuol dire che qui lui utilizza il massimo del volume questo lo abbassate un po' così ecco lo tenete a un livello di questo genere e a questo punto quando poi il primo intervento prenderà la parola abbasserete fino a qua se invece volete passare alla seconda colonna sonora allora porterete il cursore fino all'estremo dove vedete le tacche sono più alte vuol dire che il volume è più alto e farete partire il play della seconda colonna sonora mentre interromperete questo che poi potreste anche portare indietro quindi che cosa abbiamo capito? abbiamo capito che per registrare il podcast ci va una persona che sia qui a manovrare questo oggetto una persona che con il dito come dico io dà la parola all'uno all'altro e manovra le colonne sonore la loro intensità sente la voce se sente in cuffia che la voce dei suoi compagni magari è troppo bassa dirà di alzarla farà un gesto con le mani per alzare la voce indirizzato al compagno oppure per abbassarla nel caso in cui la voce sia troppo alta eccessivamente alta tenete conto che i maschi hanno una voce solitamente più bassa più baritona che si sente molto le femmine invece tendono la loro voce la loro voce tende a farsi sentire meno quindi se avete un problema di posizionamento del microfono è meglio tenere le ragazze più vicine al microfono i maschi più lontano però poi ci sono anche gli soggetti che invece di quali le cose funzionano diversamente quindi dovete fare delle prove prova 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 mettete i quattro ragazzi intorno allora Mario uno due tre quattro a turno fanno la prova e voi direte Mario viene un po' più avanti Federico un po' più indietro e trovate la distanza giusta dal microfono che sarà posto in centro io sconsiglio di tenere un microfono in mano con un cavo lungo perché perché tipicamente i ragazzi cosa fanno guardano l'insegnante oppure guardano un loro compagno allora tengono il microfono da una parte a destra poi voltano la testa a sinistra e parlano e così non si sente più ed è difficile fargli capire che quando hanno un microfono devono muovere la mano insieme alla bocca devono essere due cose che si muovono proprio identiche nella stessa direzione è complesso quindi è più semplice tenere un microfono in mezzo tutti parlano sono anche più liberi eccetera chi gestisce la piattaforma di registrazione da anche i tempi con la sua mano destra e dito indice ben puntato dirà senza parlare dirà farà questo gesto uno due tre perché perché l'avete deciso prima l'ordine se no diventa una confusione oppure silenzio perché nessuno sa che cosa deve dire a proposito del silenzio qualcuno potrebbe magari inizialmente non so imbarazzarsi quindi sta in silenzio sta in silenzio e allora ci sarà un conduttore di trasmissione il conduttore di trasmissione che è quello che fa le presentazioni che è quello che dice buongiorno benvenuti a tutti siamo qui nella terza C oggi parliamo dell'importanza dell'acqua nel mondo e delle possibilità di depurarla è un tema che abbiamo studiato qualche tempo fa ci siamo anche documentati abbiamo degli esperti in aula iniziamo con Mario che a questo punto adesso ci spiega che cosa vuol dire acqua salata e acqua potabile non potabile eccetera ecco voi dovete stabilire prima chi parla ovviamente per quanto tempo questo è il clock e questa persona che introduce e dà la parola in questo caso Mario Mario in quel momento lì è preso al panico si dimentica anche se ha il fogliettino in mano quello che deve dire e può darsi che ci sia un attimo di silenzio allora chi copre il silenzio? il conduttore il conduttore della trasmissione copre il silenzio e dice no abbiamo dei problemi sulla linea Mario allora con Mario ci colleghiamo fra due minuti appena resiamo questo allora vediamo subito invece la prima domanda che era di allora c'è la domanda Mario si mette a posto rilegge le sue cose eccetera poi interviene quindi chi in classe gestisce la trasmissione il bulletto della classe perché se avete un bulletto è il momento di ingaggiarlo per una buona causa siccome lo scopo del bull è quello di farsi vedere sentire eccetera è meglio che si faccia vedere sentire non per una malafatta ma per un'azione positiva oppure avete in classe quello che è spigliato ci sa fare c'è sempre qualcuno che ci sa fare anche più di uno ecco quei ragazzi lì sono quelli che assumeranno il ruolo di conduttore ma torniamo alla nostra trasmissione allora cosa abbiamo fatto abbiamo preparato le colonne sonore ok abbiamo preparato le colonne sonore abbiamo preparato il clock sappiamo quello che dobbiamo fare quindi partiamo partiamo in questo modo massimo volume alla colonna sonora poi mettiamo in cuffia con questo tasto mettiamo in cuffia anche la registrazione il microfono va sul rosso no? quindi forse è un po' troppo forte come audio del microfono lo mettiamo un po' a posto qui equalizzatore on abbassiamo un po' il volume ecco perfetto in modo che non vada troppo sul rosso l'autoducking lo togliamo lo aggiustiamo noi e basta poi magari alziamo un po' i toni medi abbassiamo un po' gli alti e un po' i bassi in modo da rendere la trasmissione un po' uniforme teniamo l'equalizzatore più o meno su questo punto ma fate delle prove perché poi ogni ragazzo magari sono anche adolescenti cambiano la voce dall'oggi al domani quindi fate un po' di prove e trovate una soluzione media che vada bene per tutti quindi pronti via che cosa fa il conduttore il conduttore fa questo gesto tre ah prima di tutto dirà siccome siete in classe avete venti allievi ma solo quattro registrano direte attenzione siamo in trasmissione silenzio tutti i ragazzi saranno in silenzio non c'è nessun problema e poi il conduttore alzerà la mano dirà tre due uno e partirà come fa a partire? allora prima di tutto prima di partire avvia la colonna sonora prima di partire con la registrazione regola il volume della colonna sonora regola il fader al massimo e quindi dice pronti tre due uno via e avvia la registrazione la registrazione è avviata vedete sta registrando e cosa registra? registra qualche secondo della colonna sonora poi farà così abbassa qui il fader fino a qui poi abbasso l'audio fino al minimo e inizia a parlare buongiorno a tutti eccoci nella nostra nel nostro podcast geografia e acqua potabile oggi abbiamo con noi questo esperto e parleremo di a te la parola Mario e Mario inizia a parlare se Mario non diciamo il tono della voce di Mario il volume così non sono adeguati beh il conduttore vedete cosa farà può regolare il volume in funzione anche del e e il e il tono magari Mario ha una voce da basso pazzesco abbassa un po i bassi alza un po gli altri ma sono operazioni da fare così delicatamente i ragazzi si divertono molto poi trovano la loro modalità tutti vogliono provare è fantastico questo sistema alla fine che cosa succederà alla fine succederà che dopo aver dato la parola a uno e all'altro magari qui ecco la colonna sonora questa è finita quindi si chiude sia via quell'altra in modo da rimanere sempre con il sottofondo musicale oppure potete anche registrare senza sottofondo musicale ma alla fine si concluderà la trasmissione e quindi si apre l'equalizzatore si innalza un po il volume per aumentare di volume proprio la fine della presentazione ed ecco che il presentatore dirà bene abbiamo concluso il nostro argomento a risentirci la prossima volta andremo in onda il 10 settembre alle ore 9 mi raccomando la registrazione podcast è sempre ascoltabile adesso sprich a spotify ai tionse un caro saluto a tutti quanti arrivederci e a presto detto questo alza il volume della musica in modo da farlo andare il fader al massimo lascia qualche secondo e poi cosa farà e poi farà una dissolvenza cioè praticamente abbassa un po' il volume e chiude il fader e finisce la registrazione stop stop la registrazione qui adesso è in pausa la registrazione pausa che può servire perché magari fate una pausa cambiate la colonna sonora non so il ragazzo si riprende beva un bicchier d'acqua eccetera ma non interessa chiuderla quindi quest'altro tasto chiudiamo la traduzione se vogliamo la riascoltiamo non so se l'ascoltate potete sentirla io la sento io la sentite io no non so se la sentite no non si sente no non mi dite niente vuoi dare dei consigli sulle colonne sonore da scegliere no ma lui non ci sente mi sa ah niente proprio vabbè comunque io ho sentito la premia cioè ve la darò adesso così tanto è un ripasso anche del nostro intervento e guardate che cosa potete fare la potete condividere o salvare come bozza salvatela come bozza la salvate come bozza e dove la trovate la trovate nelle bozze ecco qua nelle bozze facciamo un tap sulla matita così possiamo dare un titolo all'episodio eccolo qua trasmissione di prova per il corso Alberto ma non ci sente con bellezza e no confermato creatività ok poi salva molto bene poi la riapriamo abbiamo cambiato il titolo e usiamo il tasto modifica col tasto modifica possiamo eventualmente tagliare l'inizio e la fine se ci sono quelle pause quegli elementi così che non funzionano bene ottimo e poi a questo punto facciamo tap su condividi per condividere lui ci chiede un po' di cose ci dice in quale podcast la vogliamo inserire beh noi la volevamo inserire in l'America è un paese da svaliggiare invece la metto in didanex didattica e e-learning poi descrizione descrizione spiegazione del della registrazione registrazione di un podcast con speaker della registrazione di un podcast con speaker possiamo anche comunicare immediatamente che l'episodio è uscito tramite facebook vari canali e così via possiamo inserire dei tag qui con i soliti hashtag quelli che dobbiamo fare e come visibilità diciamo se è un episodio privato se lo vogliamo pubblicare più tardi perché vogliamo programmare la data e l'ora della pubblicazione molto interessante anche questo oppure possiamo dire se il contenuto è esplicito attenzione contenuto esplicito significa contenuto con sesso violenza cose di questo genere possiamo inserire la fotografia un'immagine specifica che ne so questa eccola qua e a questo punto l'episodio viene caricato la pubblicazione però puoi richiedere qualche minuto vuoi ricevere una notifica ma sì mandami la notifica vorrebbe rinviarti notifiche non voglio notifiche e basta lui ha registrato l'episodio dove l'ha registrato e qui chiudiamo l'ha registrato dove l'abbiamo messo qui vedete in questo e-learning e-learning vediamo trasmissione di prova per il corso insegnare con bellezza e creatività esatto dunque eccola qua la registrazione è avviata vedete sta registrando voi l'avete già a disposizione e cosa registra e questo è quanto quindi ah voi parlate ma io non vi sento no io non vi sento ma l'importante che mi abbiate sentito voi adesso adesso mi sentite noi sentiamo noi sì perfetto bene l'importante è che sentiate voi abbiate sentito voi avete sentito e seguito giusto esatto ecco bene l'importante è questo basta questo è quanto ti consigli da dove prendere la musica ideale per i podcast sì guarda la musica dunque io sono iscritto a un servizio a pagamento perché le uso normalmente anche i film eccetera ma voi potete cercare creative commons creative commons andate sul sito di creative commons e li trovate molta musica gratuita perfetto voi digitate blues non lo so cose di questo genere oppure cercate su soundcloud su soundcloud guardate la musica perché molta musica è venduta su soundcloud e altra è regalata quindi dovete solo vedere qual è quella quella gratuita o quella da regalare come si usa garage band lo vediamo magari la prossima volta all'inizio della lezione è semplice è semplice anche quello non c'è problema garage band non lo usiamo per pubblicare un podcast lo usiamo per registrare con una qualità un po' migliore dobbiamo avere anche il microfono insomma è uno strumento un po' più sofisticato quindi con garage band noi registriamo e poi trasferiamo la registrazione su speaker Roberto scusa come si chiama creative commons l'applicazione no non è un'applicazione è un sito internet ok adesso ve lo mostro facciamo così faccio prima farvelo vedere ecco qua allora creative commons creative commons punto com è così è qua è qua e voi accettiamo qui voi trovate search fate una ricerca e cercate per esempio blues i blues il jazz così sono ottimi i corolli sonori io eviterei delle colonne sonore con il parlato canzoni perché distraggono perché dovete parlare voi nel podcast no quindi c'è musica classica musica classica è un po' cioè dipende però blues jazz eccetera vedete qui fate una ricerca di che cosa non di immagine ma di audio e quindi troverete tutte colonne sonore audio che potete utilizzare tantissimo sono tutte licenze creative commons hoc avete capito come funziona dovete sempre citare gli autori e questo è johnny da the amp the waterman certo ecco quello va sempre fatto e basta magari scrivete aiuto all'autore se vi dà un qualcosa qua vediamo sì una mail potete scrivere all'autore per dire guarda che abbiamo usato la tua pronunzionale per il nostro podcast siamo tutti contenti eccetera fa piacere sapere che il lavoro viene impiegato perfetto vabbè sono le 6.20 sì basta dobbiamo finire alle 6.10 sì va bene ci vediamo giovedì benissimo l'ultima cosa l'ultima cosa l'ultima cosa l'ultima cosa l'ultima cosa sembra la registrazione che per me è fondamentale sì sono Maria Carmela sì sì Maria Carmela certo grazie figurati grazie mille penso che già stasera perché adesso essendo a casa è più facile grazie 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 figurati grazie ci vediamo ci vediamo giovedì e poi venerdì giusto ci vediamo giovedì e lunedì Alberto scusami ultimissima cosa rapida quindi con Spreker noi dobbiamo creare il podcast e dopo lo dobbiamo caricare come compito assegnato giusto? sì esatto voi fate una prova di podcast anche in famiglia perché ovviamente non siete a scuola prendete prendete forzatamente due membri della vostra famiglia e li obbligate a fare un classico podcast sulle vacanze le ricette migliori le cose più fighe che avete fatto che ne so provate una trasmissione poi ci divertiamo ad ascoltarle le mettete posso chiederti anche un'altra cosa sono obbligatorie tutte le attività ciò che obbligatoria è una parola no no le attività nessuna attività è obbligatoria nei fatti servono solo per il fatto che sendo io qui è un po' difficile questa magari ci vuole un po' più tempo ma no perché puoi fare una piccola prova no? se fai una trasmissione di due minuti che ne so tuo figlio fa l'introduzione tu spieghi una ricetta tuo marito spiega come ha pescato un tonno di 6 metri così semplicemente guardandolo e chiudete fate una prova perché vi interesserà poi è bello ascoltarsi perché così vi fa riflettere su tante cose no i compiti servono solo perché sendo io qui poi li possiamo magari un po' vedere commentare un po' insieme eccetera tutto lì va bene Alberto ci vediamo allora mercoledì Alberto scusami per quanto riguarda il calendario sì cosa dobbiamo fare? sei incontri giusto? sì e quindi l'abbiamo fatti tre con oggi sì esatto questo è il calendario guarda lo condiviso qua sì vedi e quindi mercoledì ci veniamo no ah mercoledì mercoledì ok ok infatti ho detto mercoledì tu hai detto ci diamo giovedì non mi trovo ah sì sì giusto giusto no perché domani che giorni a domani è martedì domani è martedì giusto giusto mercoledì e poi giovedì ok esatto perfetto e poi lunedì sì ok giusto giusto va bene ok allora vi auguro una buona serata ci vediamo sì grazie ci vediamo anche a voi grazie buona serata ciao 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 ciao